1 2 3 però ne di costoli di seracole di nastino al contrario saluta era il preambolo ho messo di lato perché leggo lì e devo spacciare la live in giro ora dunque vado a cercare la pagina dove sto sto qua arrivo come al solito arrivo arrivo condivido un attimo scusete se non vedo con tutti con la storia marta buonasera agnese buonasera arrivo a spaccio un attimo la live nei gruppetti e arrivo angi buonasera angi angi buonasera io ho sempre sonno perché non riesco vai a dormire live del lunedì a tema reincarnazione così anche sui gruppi ok fantasmi paranormale misteri esoterismo poi arrivo è il gruppo del nido del corvo elite moccasono esatto parliamo di reincarnazione uno per reincarnarsi prima deve morì inga buonasera arrivano buonasera arrivo allora me ne manca fantasmi magia libri occulto e poi sbuco samuel buonasera ultimo della lista olè renata buonasera luana buonasera maria grazia ciao buonasera ok qua ce l'ho fatta qui abbastanza indifferita ora provo un attimo ad aggiornare no aaaah ora dove sono finita non si sa non si sa non si sa ora via vi addrizzo andrei buonasera ok ok oh è sempre indifferita ma un po meno ora invece vi metto di qua vi sposto monica buonasera nel tentativo che si avrà oh ole torero 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 ole pina buonasera ragazza perché qua mi si aggiorna e qua no gg buonasera non capisco perché sul telefono mi appaiono dei commenti e sul pc no c'è qualcosa che non cosa marina buonasera ok ora dovrebbe essere tutto organizzato sperando che sul pc appaiano sperando ando 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 sono pettinata come al solito con i petardi sto di corsa come le bisce che fastidio devo andarmi a sistemare i capelli prima o poi ce la posso fare laura buonasera prima o poi ce la posso farci cercavo di incastrarli nell'elastico in modo che non mi sconficciassero sul collo ma non ci riesco speriamo che tengano chiara buonasera angela grazie che hai accolto la mia proposta sulla reincarnazione sì perché me l'hai chiesto tu me l'hanno chiesto altri utenti mi apparivano video cose che trattavano l'argomento alla fine ho detto ho capito tra voi te e gli altri e l'universo bisogna parlare di l'incarnazione e quindi io prendo sempre al balzo i consigli che mi vengono anche utilissimi tra l'altro perché in sto periodo se devo sperare di pensare con la mia testa qualcosa sono talmente accucinata dalle mille mille cose che devo fare pensieri che devo avere e tutto che lasciamo perdere ciao volevo sapere se anche cani e gatti si reincarnano mi è morto il cane cinque giorni fa si si reincarnano anche loro come noi con tempistiche leggermente diverse nel senso che per un animale è un po' più difficile seminare ricordi rispetto a un essere senziente e quindi loro si reincarnano in maniera un po' più veloce di solito rispetto agli esseri invece ragionanti no erica buonasera rosa buonasera quindi dicevi che il karma non c'entra nulla con la reincarnazione ho sbaglio però avete passato a reincarnazione sì il karma è soltanto quello che tu emani che come lo emani lo assorbi anche quindi non c'entra nulla con il discorso delle reincarnazioni seppur alcune cose che hai emanato in maniera estremamente grossa che siano positive o negative se non sono ritornate tutte addosso in questa vita terrena le finisci di assorbire nella prossima ma questo è solo perché è un ritorno di quello che tu hai emanato erica buonasera samuel anche io sono molto contenta per l'argomento sì in tanti me l'avevate chiesto però quello ho detto vabbè lo facciamo così dica buonasera oh sei in incognito zuleica o ti hanno bloccata ciao chiara silvia ciao amata medium ciao amata erbana stefania buonasera che gioia chissà cosa ho emanato io oddio chissà cosa ho emanato potrebbe essere inquietante come frase se ti volessi fare una battutaccia ti direi dipende da cosa hai mangiato nicoletta buonasera gabri buonasera mariella buonasera se uno è il coglione in sta vita si sperano sia nella prossima ci sono ancora speranze sì in effetti le speranze ci sono perché i ritardi e le ottusità mentali spesso sono solo una questione fisica e societaria e poi per fortuna l'anima non è contagiata iris buonasera come diceva nei litfiba la speranza è l'ultima a morire chi visse sperando non si morì non si può dire ciao sabri ci sono un sacco di remixate nel discorso della reincarnazione perché perché i popoli che maggiormente trattano questo argomento sono quelli orientali noi ci becchiamo sempre per pochi minuti vero tatina è perché tu fai le live quando le faccio io oppure tu c'hai una cosa quando io sto facendo l'altra quindi ci incrociamo per un ciao buonasera lannina bianchetta è possibile conoscere le vite trascorse si è nata attraverso la meditazione regressiva e tanta 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 pazienza e sterina buonasera 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 sulla reincarnazione ne parlano e ne discutono di più buonasera 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 salve del luce buona diretta spiegazioni pro facciamo avanti come faccio a capire da che specie aspetta che mi sei detto mi sono reincarnata come da che specie in che senso Ivana l'anima non ne ha specie nel senso di si ha una razza perché ci sono i ragionanti e i non ragionanti però di solito i ragionanti si reincarnano in altri ragionanti e viceversa si può scoprire nel sogno lucido la tua vita precedente? diciamo che può succedere di avere dei lucidi regressivi sono però per lo più dei lucidi involontari e quindi non cercati è difficile andarsi a cercare un lucido regressivo eh volontario però si possono accadere raggiungiamo i mille ascoltatori come mille siamo a 59 già devo correre per rispondere se arrivano a mille non so più con chi parlare quindi il mio cane la sua anima non ricorda più la sua vita terrena non mi ricorda più perché che c'entra allora finché è di là si ricorda quando si reincarna anche gli umani quando si reincarnano cioè tutte le anime quando si reincarnano basta non ricordano più no è il ciclo normale dell'esistenza Dania buonasera non riuscirai mai a chiamarmi per nome l'indinalva ce l'ho fatta eh 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 comunque si l'indie è meglio è più breve eh eh forse da una biscia eh eh no eh eh gli esseri non ragionanti quindi le anime tipo degli animali non possono diventare umane o comunque ragionanti ciao madre tu sempre stai poco poco c'hai sonno c'hai da fare se abitavo a Milano vedevi te aaaah a casa ti venivo a prendere e ti mettevo sul divano ad ascoltare la live lì seduta nell'angolino eh eh Elisabetta buonasera io sicuramente ero molto bestia eh 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 scherzo ho fatto lo specchio qualche giorno fa fantastico quello che ho visto ci sono diversi metodi sì per poter vedere con gli specchi è diciamo quella che riesce a vedere meglio i dettagli particolari anche io preferisco quella e per gli alieni come funziona per le reincarnazioni uguale Erika le anime ragionanti sono tutte uguali non c'è l'anima aliena e l'anima terrestre le anime sono tutte uguali anche tu sei stata anche in altri pianeti anche io sono stata anche in altri pianeti poi di nuovo qua poi di nuovo la e via dicendo buonasera autun bevuce perché quando si sbadiglia si rischia di prendere qualche anima di passaggio no eh 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 è un vecchio detto che usava per convincere le persone a mettersi la mano davanti alla bocca quando sbadigliavano che in effetti vedere le carie di quello che sta davanti a te e le sue tonsille non è un bello spettacolo e quindi si diceva per convincere la gente a mettersi la manaccia davanti alla bocca giovanna buonasera quali sono i particolari che anche senza regressione ti fanno intendere che sei un'anima antica o un'anima nuova beh normalmente le anime nuove tendono a fare vite molto brevi e molto ehm con pochi elementi perché? perché devono imparare pian piano nel corso delle varie reincarnazioni in generale più una persona ha la vita arzigogolata piena di alti e bassi piena di scelte piena di problemi alternati a gioie casini vari più ce l'ha incasinata praticamente è più antica in poche parole buonasera barbara buonasera monica aspetta mi son persa che cos'è sta cosa negli specchi una meditazione regressiva Ivana per poter vedere le proprie vite passate come si sceglie in cosa reincarnarsi cioè chi sceglie chi sceglie scegli tu e non è proprio lo scegliere in cosa reincarnarti o lo scegliere tutta la tua vita cioè è lì che sta l'errore la scelta è solo delle esperienze che tu devi fare poi sono i collegamenti con tutte le altre anime che devono fare altre esperienze a essere diciamo mescolati e mixati in modo che gli altri portino te ad avere quelle esperienze e tu in contraccambio porti degli altri ad avere le loro esperienze non è proprio una scelta giorno per giorno scusa non so se mi ricordo bene quindi noi siamo anime della quarta dimensione esatto e possiamo reincarnarsi anche in altri pianeti lo stesso certo che c'entra i pianeti sempre nella terza stanno non è che cambiano dimensione ai pianeti sono sempre nella terza ciao chiara io penso che mia figlia abbia vissuto un bel po' di vite spesso mi dice di essere stati in posti con me quando era piccolo ma non è così beh può essere che più che altro se ti ha visto con lui o sa che sei stata con lui in altre vite può essere che appunto siete figli rossi quindi comunque siete legati da più vite insieme come anime io sono molto antica in pratica ha voglia perché io no vabbè ma noi non facciamo testo siamo siamo gli antenati delle anime antiche io la voglio fare pure che devo fare una mi pare di averla messa anche sul mio canale youtube se non erro e se no ce ne sono alcune si trovano su youtube comunque le migliori sono quelle del dottor Waze dal mio punto di vista però hanno dei pro e dei contro la tecnica utilizzata nei video del dottor Waze che si trovano gratis tranquillamente su youtube sono buonissimi per imparare la tecnica di meditare in regressivo il loro problema è che sono veramente troppo corti cioè 27 minuti tra i 27 e i 33 minuti in 33 minuti tu riesci a vedere il bottone della giacca che avevi in quella vita e poi senti la voce che ti dice adesso è ora di tornare e tu sei lì che no non voglio tornare mollami qua che devo finire di guardare niente te portano via quindi il mio consiglio è sempre imparare per bene a memoria il metodo quando l'avete imparato a memoria non fate più la guidata ma vi mettete una bella musica rilassante di quelle che piacciono a voi io uso le campane tibetane ma ognuno può usare quello che preferisce e si fa la sua tecnica per tutto il tempo che vuole a me mi dicevo che vogliono almeno 3 ore per vedere bene tutte le cose con 27 minuti cosa faccio? qualche sera fa ho avuto un sogno lucido ho passato un bellissimo labrador nero a salutarmi mi ha fatto un sacco di feste poteva essere un cane della mia vita passata non ho mai avuto labrador nero nella mia vita attuale assolutamente sì può essere stato un animale che è legato alla tua anima e che hai avuto e stato a contatto con te in qualche altra vita sì sì i luoghi e le situazioni già vissute senza conoscerle ma che sembrano già conosciute che significato hanno? i luoghi possono avere più di un significato le situazioni invece già vissute normalmente non arrivano da una reincarnazione ma da dei loop reincarnici cioè quando tu praticamente questa stessa identica vita che stai facendo l'hai già fatta perché hai sbagliato qualcosa e non hai praticamente superato l'esame di fine anno quindi ripeti l'anno e ripeti quella stessa identica vita come il déjà vu per esempio addirittura ieri mi disse mamma ti ricordi quel signore che abitava qui? ci salutava sempre quel signore è morto 30 anni fa e mio figlio ha 17 anni beh dipende parla proprio di quel signore perché 13 anni di differenza dalla sua morte sono un po' pochi perché si ricordi cioè perché sia stata un'altra vita normalmente le vite hanno degli stacchi più grossi come tempo da una vita all'altra dovrebbero passare 100 200 300 400 anni o anche di più ma difficilmente sono 13 anni il lasco è un po' breve quindi non so a questo punto se sia una reincarnazione di quella di cui hai ricordi ciasveva come fa a nascere un'anima mi spiego si parla di anime antiche quindi anime che si sono reincarnate molte volte ma un'anima nuova come nasce alla fonte delle anime nella quarta dimensione ci sono delle entità elevate che quando per qualsiasi motivo un'anima viene distrutta o decide riesce a non reincarnarsi più che è una cosa comunque estremamente difficile e che non c'entra nulla con i meriti con la bravura con l'apertura nel nirvana e tutte quelle robe lì però può succedere che qualche anima decida di non tornare più nel mondo materiale allora in quei determinati casi oppure viene distrutta anche lì è un caso rarissimo però succede in quei casi lì esiste un luogo nella quarta dimensione che è chiamato o perlomeno che alcuni occultisti compresa me chiamano la fonte delle anime nuove vengono proprio fisicamente pescate da una sorta di laghetto in poche parole per farla molto semplificata che la possano capire tutti ciao Emanuela me va oggi ho visto il tuo video su Francesco Forgione e l'ho fatto ieri sera YouTube soprattutto quando parte la pubblicità è più miglia un infarto beh con le meditazioni anche le mie stesse consiglio sempre che è più semplice se vi scaricate il video sul telefono o sul pc e poi ve lo ascoltate con calma ci sono un sacco di siti che vi fanno scaricare tranquillamente sia il video sia anche solo il sonoro quindi è più comodo perchè le pubblicità tanto non le puoi togliere quindi è inutile lamentarsi anche se hai il canale io che ho il canale non le posso togliere quindi in ogni caso 3dv backup è forza l'unico modo per non beccarle è scaricarsi il file gli animali possono avere loop reincarnici è difficilissimo perchè di solito loro hanno un destino che non è marcato tanto dall'imparare nuove cose le loro reincarnazioni sono improntate quasi esclusivamente sul discorso delle energie dei ricordi quindi non hanno una necessità di essere imbocciati o promossi di desiderare di ripetere quella vita e via dicendo è difficile io uso i suoni della natura soprattutto l'acqua che scorre l'acqua che scorre piace anche a me e ho un file che è proprio insieme le due cose che io amo l'acqua che scorre e le campane tibetane normalmente ascolto sempre quello lì che ha un mix che per me è perfetto anche se alla seconda ora con tutta quella acqua che scorre e mi scappa la bb ammetto un mesetto fa ho provato a fare una a fare la tua meditazione che è presente sul tuo canale quella proprio per la reincarnazione credo di essermi poi addormentata e mi sono vista come in fila tra altre persone non mi sembrava di indossare abiti di quest'epoca per capirci non so cosa stavo facendo ma ricordo che vicino a me c'era mia figlia mi sono poi svegliata mentre mi chiedevo ma perché c'era anche lei con me ci ho poi riprovato ma non ci sono più riuscita allora quando ci si addormenta e si hanno questi diciamo sogni questi che siano lucidi o meno però questi sogni reincarnici quindi di ricordi animici non sono sempre chiarissimi come le visioni che noi abbiamo nella meditazione normale a volte riusciamo a vedere anche persone che sono legate a noi a livello animico a volte invece è il nostro cervello che mischia il ricordo dell'anima con le nozioni che noi conosciamo in questa vita quindi è difficile dire il perché ci fosse tua figlia sul fatto che fosse invece un ricordo animico il tuo quello di te in quel in quell'abbigliamento via dicendo quello assolutamente si può essere benissimo anzi spesso succede Ciao Simona come riconoscere le vite passate Antonio in che senso? durante la meditazione le vedi quindi vedi proprio le scene vedi i dettagli le scene e via dicendo poi comunque quelle che vediamo prima di solito sono quelle che sono rimaste più impresse nella nostra anima e quindi normalmente sono più legate anche ai nostri gusti a quello che ci piace a quello che non ci piace all'epoca che ci attira di più che ci attira di meno e via dicendo proprio perché sono ricordi più forti nella nostra anima io continuo a vedere una faccina che si arrabbia e svolazza ma non capisco perché e se qualcuno è arrabbiato me ne farà una ragione me ne farà una ragione quella siamo 74 questo non lo so ma quella casa è abbandonata da quel giorno che è morto ah si è però appunto lì è un discorso un po' diverso perché non credo che c'entrino le vite passate non mettete a ridere ma io sono sicura che avevo come amico un drago e tuttora mi protegge può essere o mi devo far curare ma assolutamente alcuni di noi hanno anche eh come totem un drago quindi come guida i draghi fanno parte del dell'esistenza nel caso del pianeta Terra del passato ma erano comunque creature quindi il fatto che tu possa avere anche una guida drago io amo per altri draghi soprattutto quelli asiatici perché quelli europei sono più una mezza invenzione a livello proprio di estetica e di caratterialità però in generale il drago è stato un animale un animale è stato una creatura non un animale peraltro ragionante è facile che sia possa essere una guida possa essere un'anima legata possa essere tante cose io sapevo che prima della nuova reincarnazione devono essere andate eh aspetta coparsi il filo devono essere andate via tutte le conoscenze parenti eccetera della vita precedente giusto? non c'entra niente erica quelle sono tutte regole che si inventano gli uomini e se li inventano così tanto per forse perché sperano che finché non muoiono i loro cari stiano di là così a guardare loro invece che andarsi a reincarnare ma in realtà non è così assolutamente noi abbiamo conosciuto in congrega anche con le altre colleghe parecchie persone i cui cari una ragazza il padre e via dicendo si sono reincarnati anche in maniera veloce a volte perché volevano in qualche modo tornare per finire una cosa che avevano lasciato in sospeso vicino all'altro caro oppure si sono reincarnati proprio per cavolasci loro da un'altra parte hanno ripreso i loro studi non ce n'è questo tipo di regole se le inventano gli uomini se noi dovessimo incontrarci nell'oltre ti prego di ricordarmi di non fare più scendere in canne che del cavolo e me ne faccio una ragione per le scelte e mi ritrovo a vivere Antonella buonasera allora in una regressione ho visto il mio suicidio era 18 anni e qualcosa legato a quello che faccio oggi non la numerologia morto perché facevo una vitaccia beh il suicidio di solito può essere anche una scelta di nodo cioè può essere una scelta di un'anima che vuole sperimentare anche quell'esperienza come tutto quello che ci accade ma di solito è difficile normalmente il suicidio è quando un'anima ha scelto un determinato percorso ma quando poi ha provato a farlo non c'è riuscito è un po' come quelli che si iscrivono alle superiori e poi a metà anno scolastico abbandonano e poi si iscrivono mi sto avendo flash ma solo immagini di cose che mi portano in Egitto ora piano piano faccio regressiva per vedere di più in Egitto avevamo avuto delle visioni già io Giovanna di Cento Cristina Mirci comunque in Egitto anche c'erano anche Marina all'epoca quando stava con noi aveva avuto dei legami con l'Egitto tu poi sei legata anche alle divinità egizie a Echmet quindi comunque assolutamente arriveranno questi ricordi ciao Lella buonasera aspetta in un dramma cinese di cui non ricordo il nome c'era la fonte delle anime nuove molto simile a come l'hai descritta tu adesso ah si? sai che questo non lo conosco Chiara? strano perché io di solito anzi mi focalizzo proprio a guardare i drama che in qualche modo hanno un qualcosa che io conosco perché io lì trovo un sacco di cose per come le conosco io ovviamente dopo che io le conosco già e questa invece non lo conosco ora mi hai fatto venire la curiosità devo andarla a cercare quando conosciamo ah mi sta salendo mi sta salendo tutto quando conosciamo persone e a pelle ci creano disagio è possibile che sia uno straccio di vita vissuta in precedenza? sì di solito sì tutte le sensazioni a pelle sugli altri quindi sia una persona che ci piace a pelle sia una persona che non ci piace a pelle può essere un segnale di un ricordo animico di qualche altra vita dove ci siamo incrociati è quello anch'io Pam lo voglio cercare però non mi viene in mente niente con la fonte delle anime sinceramente nei drama ciao Steffi buonasera hai ragione io ho provato con Waze ma sono riuscita solo a vedere che avevo delle scarpe folletto gnomo non saprei così ora ho il dubbio di essere stata un nano simile beh anche il piccolo popolo fa parte delle creature vive Elisabetta quindi in ogni caso potresti anche essere stata in qualche vita qualche personaggio del piccolo popolo o magari eri un nano del circo vestita da elfo questo in generale però si sono un po' brevi bisognerebbe imparare ad allungarle allora perché mi mi si blocca tutta la situazione no eh oh Francesca secretaria buonasera buon compleanno a Brandon era sabato allora mi si sta inchiavardando tutto quanto qua non mi si alza non mi scorre se un suicida aiuto ah no io mi immagino uno che mi tiene a braccetta che mi dice adesso vediamo le cazzate che hai fatto tipo cinema guarda che a me una cosa simile ogni tanto mi capita quando dico anche quello che non devo dire o parlo troppo che mi acchiappano dall'altra parte mi dico via il po' qua ma guarda le cazzate che hai fatto una cosa simile non proprio così ma similiar allora se uno si suicida deve rifare il lupo cambia proprio il suo percorso può scegliere Autum può scegliere di riprovarci un'altra volta oppure può scegliere di cambiare completamente esperienza e buonanotte al secchio sì è vero stea anche tu eri avevi visto pezzi reincarnici dell'Egitto io invece devo ricordarmi di reincarnarmi in un pianeta senza insetti su questo ce ne sono anche troppi occhio che c'è anche un pianeta o due dove gli esseri ragionanti hanno proprio l'aspetto dell'insetto gigante in effetti vengono definiti insettoidi stai attenta che non ti buttano lì per farti passare la fobia io a pelle non sopporto le donne del segno del cancro beh Sterina nelle reincarnazioni il segno zodiacale per lo meno qua sul pianeta Terra è sempre lo stesso in tutte le proprie reincarnazioni quindi ci può benissimo stare che hai avuto qualche conflitto con qualche persona che in quella vita era donna e che fosse del segno del cancro qua sul pianeta Terra per lo meno allora non sbaglio di molto avere questa immagine ciao Eugenia ok siamo arrivati ciao Gloriana scusate se vi leggo a salti ma ciao Riana oh Silvia aspetta eh oh quando saremo nell'oltre con chi valuteremo il nostro percorso terreno e se siamo passati o bocciati rivedremo la nostra vita come un film no Silvia non è non c'è il giudice che ti dice se sei promosso o bocciato io dico promosso o bocciato per far capire che noi arriviamo con degli scopi con questi punti con queste materie da imparare e poi arriviamo alla fine dell'anno scolastico che alcune le abbiamo imparate altre no ma siamo comunque poi noi a decretare se è il caso di rifarla se è il caso di andare in un'altra vita ma dove possiamo ancora prendere un po' come quando vieni rimandato a settembre e quindi passo l'anno però questi due me li porto anche nell'altra vita e via dicendo però non c'è un un giudice un un preside che ti fa l'esame e decide di bocciarti e di promuoverli sei tu stessa a bocciarti o a promuoverti ma il film la vita come un film la vita non è un film di muscoli e robot era Marco Masini eh ve lo dico così vi tagliatele bene subito ma ehm se vuoi la puoi rivedere come un film sì certo di la puoi tutto perché è la mente che crea il pensiero non la mente quindi se vuoi rivederla come un film contenta tu eh 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 leva sento altre voci oltre la tua perché forse è sempre il solito discorso delle cuffiette che mi dimentico di staccare ora dovreste non sentire più niente in teoria se poi le sentite ancora non lo so ma non sono più io 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 mi immagino ma perché non mi sale non mi scende non mi fa un belino hm scusate eh la 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 hm non mi vuole salire e scendere allora eh vi leggo da qua abbiate pazienza ma la mi si è bloccato tutto e io mi immagino uno che mi tiene abbraccio ah questo l'avevo già letto prima aspetta eh allora noi possiamo essere la reincarnazione di un nostro avu si Samuel tendenzialmente potremmo essere sempre lui o lei che sia reincarnato anche come pronipote eccetera non ha tanto senso la cosa a livello animico ma potrebbe anche succedere si io non so qua mi sta salendo tutto ragazzi mi si accavallano i commenti mi succede di tutto allora queste le avevo già lette oh eh dagala mi va di nuovo su ma perché hm allora lauretta buonasera io io feci la tua meditazione con campane tibetane tre ore in una era una donna vestita tipo moulin rouge per capirci da ciò che ho visto non era proprio una santa quelle del moulin rouge non lo erano nessuna in un frangente successivo mi sono vista suora proprio dalle stelle alle stalle eh suora in mezzo a un grande prato verde non mi puoi scrivere in mezzo a un grande prato verde che a me mi viene in mente un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi gianni morandi e sentivo come se stessi in austria in primis vidi che stavo morendo da dentro un'armatura da soldato perché vedevo dalla fessura di un elmo credo dal basso in alto ma una suora con l'armatura da soldato mi sembra un po' strana a parte giovanna d'arco che vabbè però quella poi stava in francia tutt'altra storia lauretta buonasera sorella anche io c'ero con voi non c'eravate solo voi si si no no che fate comunelle c'ero pure io Anna Maria buonasera ho perso i pezzi qua non mi si mi si sta bloccando tutto non mi gira non mi gira non mi gira allora ma perché scusate aggiorno un attimo perché qua è un macello non mi ricordo di me ma c'era una scena specifica in cui due divinità importanti le facevano uscire da una specie di lago rappresentato come un immenso portale le anime erano in fila e attendevano che queste due figure importanti dicessero loro dove andare non me lo ricorda proprio chiara sto dramma mmm mmm mi ricordo due o tre dramma che ci sono con il portale di passaggio della reincarnazione che in un dramma è un lago in un altro dramma è un buco in uno dei nove cieli un pozzo che si buttano di lì in mezzo alle nuvole si cacciano di sotto e si reincarnano nella vita terrena ma questa del lago non me la ricordo proprio oi Belin Teresa aspetta che mi sia aperta tutta la miseria di là fiamme gemelle e reincarnazioni insieme cosa ne pensi? è una cosa che mi affascina molto e purtroppo le persone si affascinano pensando di trovare l'amore eterno in realtà è il contrario in queste vite terrene normalmente non ci si può mai unire le unioni sono solo di là di solito con le fiamme gemelle quelle che vengono chiamate fiamme gemelle e per questione di distrazione perché altrimenti rischiano di essere distratti e quindi non portano avanti i loro compiti è tutto un discorso di... ho fatto proprio un video apposito sui fili d'argento che sono quelli che tu chiami fiamme gemelle però le reincarnazioni si cioè nel senso che può succedere spesso come anche per gli altri fili rossi che due fili d'argento si reincarnino nella stessa epoca nella stessa esistenza io ho visto che mi sposavo in Egitto ero bassina vesti beige e un disco solare in testa in una sala con delle mura alte beh, se avevi un disco solare in testa c'è comunque ridiestrazione nobile buonasera Iva le entità si incarnano anche in umani e animali e poi si dice reincarnazione o incarnazione allora reincarnazione siamo noi che ci reincarniamo cioè ci incarniamo di nuovo re vuol dire di nuovo invece le incarnazioni normalmente sono o le anime nuove cioè alla prima incarnazione perché la prima non è una reincarnazione ma è una incarnazione oppure a volte qualche entità elevata che per motivi diversi da quelli per cui lo facciamo noi ha la necessità di incarnarsi in un essere vivente allora quella è un'incarnazione se no noi animi che facciamo i cicli normali ci reincarniamo ogni volta oggi ho meditato con Siri ma poi il gatto mi ha fregato il sigillo e ora devo rimbarlo i gatti sono il traditore della patria sono tremendi buonasera Maria Teresa ma non ho la sua risultata sono le sue diverse vedi che avevo mixato le cose la primissima fu quella del soldato poi le altre due lo so è sembrato strano anche a me l'accostamento suora donna moulin rouge beh in realtà non è strano perché appunto noi veniamo in queste vite per provare tutte le esperienze quindi anzi è facile che due esperienze contrapposte cioè proprio all'opposto le dobbiamo e le vogliamo fare entrambe anzi in tempi anche abbastanza ravvicinati quindi roba da una vita all'altra anche Antonio Capo buonasera se sì c'eri pure te che con le tue magagne madre picchiava sempre me sì sì ma a me perché a me che mi lanciava gli zoccoli che ero diventata meglio di Kenshiro incrociato con Rocky Joe no? ci si può reincarnare in una pianta o non avrebbe senso per le anime ragionanti allora autum un conto è la reincarnazione che ha un senso logico per l'anima che è effettivamente la necessità dell'anima stessa ma c'è un ma siccome le anime sono ragionanti cioè le anime alla fine siamo noi può succedere mettiamola così che per un motivo o per l'altro ci incaponiamo tanto che dobbiamo tornare in quella vita da quella persona in quel posto in quella casa in quell'orto perché? perché secondo noi abbiamo lasciato qualcosa di incompiuto vogliamo aiutare qualcosa qualche anima ad andare avanti mille mille belinate nostre personali animiche mentali e allora può succedere che per fare prima e tornare in qualche modo ci reincarniamo in un animale in una pianta ma non è per la necessità dell'anima è semplicemente perché abbiamo queste fisse inoltre comunque è sempre tutto bagaglio che entra quindi sono comunque esperienze che anche in questo caso insegnano qualcosa all'anima quindi è un in più è un po' come dire ho fatto i compiti ho studiato sono andato a scuola ma faccio anche un salto in biblioteca che potrei trovare qualcosa che mi interessa ancora ecco fiamme giovedere in caranzini insieme cosa ne pensi ah ho già detto prima non me la ricordare che la che svevuzza mi picchiava con tutto quello che gli capitava tra le mani devo aver preso da mia madre va che anche te con le altre due comari no la grande saga vava tu e la comare piccola o meglio la comare di mezzo eravate due delinquenti ma dov'ho spero di non portarmi il mio perfezionismo nell'oltre se no mi autoboccio altre cento volte ah 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 io invece mi voglio portare il mio menefreghismo proprio per la sera potrei anche bocciarmi ma anche no e vado avanti ciao Luana ah 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 Melania buonasera quanta energia occorre per mantenersi nell'oltre senza reincarnarsi cioè la quantità di persone che fa la differenza o la qualità del pensiero beh non ci sono dei calcoli di carburante e di serbatoio quindi non è che c'è una quantità standard ovviamente è tutto un insieme cioè ovvio che se ci sono un milione di persone che si ricordano di me anche se si ricordano male anche se mi pensano appena appena è tutto è comunque un milione di menti che mi manda delle energie se sono dieci queste persone però sono capace a inviare in maniera corretta con la candela dedicata con i ricordi con le sensazioni e tutto mi mandano la stessa quantità di energia che mi mandava il milione pensandomi perché ha visto l'accendino e poi si è scordato quindi tutto sta il casino è quando sono dieci e ti ricordano praticamente niente che ti è toccato tornare subito prego ora ora le anime che si incarnano in quelle che poi saranno persone che fanno del male al prossimo sia animali che persone perché hanno scelto di fare quelle date esperienze? perché l'anima Anna Maria le deve fare tutte le esperienze una volta che tu l'esperienza l'hai fatta basta non la devi più fare ma le devi fare tutte esperienze sono tutte anche il grattarti il naso è un'esperienza che devi fare almeno una volta e quindi alla fine purtroppo siccome per far sì che ci sia una vittima ci deve essere anche un carnefice per far sì che ci sia un morto in omicidio ci deve essere un assassino sono ruoli è come un film in un film c'è il buono e il cattivo ma poi alla fine l'attore e amico con l'altro attore vanno a bere assieme dopo le riprese buonasera Stefania per l'entità incarnazione non penso che si incarnerebbero negli animali Antonio come posso iniziare a fare meditazione? puoi consigliarmi un video? ma certo che sì la meditazione regressiva Antonio la puoi cominciare con il video del Dottor Weiss scritto W-E-I-S-S come dicevo prima sono un po' corti però sono molto molto ben fatti e iniziano a farti capire come affrontare tutto il percorso della meditazione poi una volta che capisci il meccanismo puoi meditare quanto vuoi per quanto tempo vuoi con il sottofondo che preferisce e tutto però quelli insegnano molto bene le tecniche per entrare all'interno della meditazione ho già visto un video che hai fatto eredità animica molto bello e guarda Antonella ne ho fatti tanti sono a 1370 video mi pare e sì quello me lo ricordo perché ne ho parlato anche da poco con alcuni amici e ce ne sono tanti e che cerco di parlare un po' di tutti gli argomenti che possano interessare un po' a tutti le fiamme gemelle hanno profili diversi ma hanno numeri in comune sì c'è anche quella postilla me l'avevi vagamente spiegata l'altra volta in effetti poi devo anche approfondirlo sto discorso ti devo riacchiappare per i numeri sfruttamento di amici modalità on io non riesco a vedere ciò che sono stato nella vita passata ho provato a fare delle meditazioni che hai pubblicato mi lasciano solo sgomenta nella situazione senza capire bene ciò che ero perché mi sembra di essere sempre me stessa con le persone che ho nella mia vita di adesso beh diciamo Luana che moltissime persone che abbiamo intorno nelle varie vite sono le anime legate a noi dai fili rossi e quindi ce le ritroviamo sì spesso in altre vite e molte volte nelle regressive siccome in questa vita le conosciamo con quella faccia le rivediamo con la stessa faccia tu più che guardare le facce delle persone devi guardare i dettagli di ciò che ti circonda quindi i vestiti gli ambienti sono quelle cose lì che ti danno indizi non tanto le persone che hai incontrato ciao Moira ciao Andrea buonasera può uno spirito libero innamorarsi di una persona viva e perché? uno spirito libero intende uno spirito senza corpo? ma i defunti di solito possono tranquillamente loro non hanno emozioni però si possono diciamo infatuarsi possono attaccarsi a qualcuno le entità elevate no lo so che è bello pensare ai film delle sorelle Alliwell dove una usciva con l'anziano del paradiso e l'altra si sposa il demone figo dell'inferno ma i demoni gli angeli i guardiani eccetera non ce cacano quindi non verranno mai a cercare a noi poi non gliene può fregare meno Mari ciao buonasera ecco perché dopo sei venuta la nonnina tua una bella accoppiata la sorella sei stata sorella vicina di casa nella tribù indiana non mi ricordo che parentela c'era ma c'era una parentela quell'altra è stata figlia sorella nuora chi più ne ha più ne metta penso che intendesse con spirito libero un disincarnato quindi un defunto alla fine libero dal corpo ciao Linda grazie non mi hai letto ti rifaccio la domanda brava allora se ci si reincarna in una dimensione parallela sono sempre loop o esistono dimensioni parallele con mondi migliori di questo magari con meno cattiveria con più consapevolezza in cui vivere una nuova vita sì le dimensioni parallele sono praticamente infinite qualsiasi dimensione tu possa immaginare esiste quindi anche diciamo tra virgolette quelle più belle alcune dimensioni parallele si differenziano di pochissimo io qua ho un cavetto con i bordi azzurri quindi nell'altra dimensione è tutto identico ma il cavetto c'è i bordi rosa ma in contemporanea ci sono anche dimensioni che sono completamente differenti in quasi tutto rispetto a questa dove siamo ora ad esempio buonasera Valentina le posso chiedere dove ha acquisito le sue conoscenze relative all'argomento di cui sta parlando faccio da sempre meditazione regressiva ho fatto anche delle meditazioni regressive insieme con alcune consorelle di congrega parlo faccia a faccia con le entità da quando sono nata e quindi ho la possibilità di chiedere tante informazioni alle entità direttamente e inoltre ho anche studiato tanto tutti i riferimenti della fisica quantica i riferimenti appunto di studiosi come il dottor Weiss come anche quelli che non mi piacciono come Steiner perché comunque i paragoni servono sempre anche per definire chi ti possa piacere e chi non ti possa non piacere nelle sue affermazioni un po' tutto l'insieme non c'è un punto solo dove tu ti fai l'idea ed è quella non funziona come nella religione che arriva uno e ti dice così perché te lo dico io qui sono su 48 anni che ho 40 anni di studio e di testo sul campo da bambina sentivo dire così dai grandi e io avevo un po' paura sì perché lo dicevano proprio appunto il discorso ancora della mano dello sbadiglio per insegnare a mettere la mano davanti alla bocca quando ci si reincarna l'anima si racchiude prima nel corpo astrale per poi entrare in un corpo materiale grazie mille sai che di preciso non te lo so dire perché è una domanda che non mi sono mai posta ma credo che in realtà sia il corpo etereo quindi l'anima che entra all'interno del corpo materiale e che dopo solamente dopo crea proprio quest'aura di congiunzione tra l'anima e il corpo che va a formare una sorta di armatura che è il corpo astrale penso che sia quello e avrebbe anche un senso il discorso dei meridiani e dei 144 chakra che potrebbero essere i punti proprio di congiunzione tra anima e corpo Sveva chi ha deciso tutte queste regole? ci sarà un capo che gestisce e controlla tutto? ma in realtà non ce n'è regole Gabri è il contrario è solamente un ciclo esistenziale non ci sono regole dove le vedi le regole? al contrario non ce n'è proprio neanche dove gli uomini ce le hanno volute mettere così tanto perché loro sono abituati a regolare tutto grazie Brianna buonasera Sveva buonasera Stella io non so se c'è qualcuno che la pensa come me ma il tema della reincarnazione mi crea un'ansia pazzesca il solo pensiero di vivere di nuovo per soffrire o per far soffrire qualcun altro mi fa star male secondo te è normale o sono ansiogena io? sinceramente Stella sei ansiogena tu ti spiego il perché non è un'offesa ovviamente alla mia ci mancherebbe perché quando siamo di qua la nostra vita dura una media di ottanta cent'anni grosso modo salvo incidenti malattie cose varie e ci sembrano la parola stessa lo dice una vita intera ma quando siamo nella quarta dimensione dove il tempo non esiste per la nostra anima cent'anni o un secondo hanno la stessa valenza quindi quando siamo di là noi vediamo tutto questo percorso come una giornata di scuola tanto per farti l'idea lo dico spesso è un po' come se tu non volessi hai fatto le analisi del sangue dieci anni fa e non volessi mai più andare a farti le analisi del sangue soltanto perché hai sentito un po' pizzicare sul braccio quando hai sentito pizzicare ti ha fatto un male porco ti stava venendo nausea ti dava fastidio la siringa diciamo è un esempio ovviamente ma dopo che ci pensi dopo dieci anni dici ma ma si mi vado a fare l'analisi poi magari sto di nuovo male perché mi fa impressione però la vai a rifare l'analisi il rapporto è questo vabbè io ho un'anima che mi ama e si fa sentire spesso il mio Mattias si ma lui è un defunto e peraltro è il tuo filo d'argento grazie al piffero Matti buonasera riscrivo la mia domanda si grazie Fede perché me l'ha saltato tutto ci reincarniamo ogni volta che veniamo partoriti quindi avviene per lo più in sala parto no allora avviene nell'arco di quei nove mesi grossomodo dal momento del concepimento può avvenire fino anche a qualche istante dopo che si è già usciti dal corpo quindi non c'è una tempistica però diciamo che si è comunque nell'arco di quei grossomodo nove mesi ma se a parte non c'entra niente Emanuela buonasera non posso trovare il mio compagno con un demone ci starei direi che anche no più che altro perché è il demone che non gli frega niente non con te in generale con qualunque essere vivente Maria Teresa buonasera la legge dell'attrazione può aiutare a scegliere una realtà nostra ideale diciamo come si dice spesso allora la legge dell'attrazione ci aiuta ad attrarre determinati benefici in queste vite terrene vero? funziona? sì se fatta nel giusto modo perché la legge dell'attrazione non è sperare di avere qualcosa ma è essere convinti di avercela già perché la speranza non caca nessuno l'universo non ha occhi e non ha orecchie non ti vede e non sente cosa dici tantomeno può capire cosa intendi non è la forma del dio religioso che c'è l'omino sulle nuvole col triangolone che ti ascolta l'universo non ascolta non ce l'ha le orecchie quindi assente solo le vibrazioni che tu emani e devono essere precise la legge dell'attrazione funziona per semplificare attrarre delle cose che però non vanno a influire su ciò che noi dobbiamo affrontare in queste vite mi spiego meglio se questa vita qua io devo affrontare le mie tanto amate pezze al culo che da quando sono nata che ho le pezze al culo e non c'è verso se riesco a mettere via 10 euro stai tranquillo che domani mi arriva 20 da spendere e l'ho acceso cavoli proprio è un dato di fatto ecco questo qui secondo me è un mio punto del destino non avrò mai un soldo da dire lo sputtano come voglio io no pace pazienza mi sono salvata la salute bene o male ho una famiglia che mi ama conquisto bene che amo alla fine chi se ne frega una volta che ho mangiato ho pagato le bollette quando ci riesco quando non ci riesco faccio il triplo salto mortale e ci riesco lo stesso e pace lì la legge di attrazione penso che non mi funzionerà mai a meno che non arriva un punto che ho sciolto questo nodo del destino quindi questa lezione non l'ho imparata ma lì posso usare tutta la legge di attrazione che voglio che tanto non me la da perchè probabilmente è un mio nodo esempio i capelli se uso la legge di attrazione perchè li voglio far crescere lunghissimi o perchè mi voglio impegnare che ne so a essere magra io non la faccio tutta sta fatica non me ne può fregare di meno però magari me lo concede perchè non è un mio nodo essere magra o essere grassa non è un mio nodo avere i capelli lunghi o averli corti che ne so tutte quelle cose lì quindi diciamo che la legge di attrazione ci aiuta ma in quello che non va a cozzare con le prove che noi dobbiamo superare in questa vita mi si è bloccata di nuovo dovresti consigliarci dei libri su cosa aurora ce ne sono talmente tanti poi sai i libri io li consiglio e parlo spesso di libri quando le persone prima hanno capito i concetti fondamentali perchè? perchè sui libri non c'è tutta la sacrosanta verità in nessun libro la troverete perchè c'è sempre anche dietro alla pagina l'opinione di chi ha scritto quel libro se voi leggete un libro e lo prendete per vero al 100% invece che imparare ve le confondete le idee voi dovete leggere un libro quando le nozioni di base le avete già tutte allora in quel libro trovate buoni spunti di ragionamento nuove nozioni da imparare ma siete anche capaci a buttare via tutto quello che è superfluo tutto quello che è stato scritto sbagliato perchè un libro o più libri che dicano solo ed esclusivamente la verità non c'è a prescindere non c'è non ricordo se ho inviato il messaggio che avevo scritto o era il momento in cui si era impallato tutto avevo chiesto se c'era un modo per capire se un nostro caro che non c'è più si è reincarnato tecnicamente non c'è nel senso che alcune persone hanno delle capacità particolari come i channeling come chi riesce per qualche motivo a andare a vedere in astrale magari nella quarta dimensione chi è capace ad aprire qualche finestra sull'oltre ma sono tutte persone che hanno delle capacità particolari hanno degli allenamenti particolari e riescono a vedere se quel dato defunto è ancora di là o non c'è più non possono vedere anche dove si sia reincarnato però possono sapere se si è reincarnato o no cioè se è ancora nell'oltre o no ma non c'è una regola per le persone comuni che non hanno queste possibilità e queste capacità inoltre è del tutto inutile saperlo non ci cambia assolutamente niente è un discorso un po' come si dice forse freddo non lo so io vedo il tutto in maniera molto diversa rispetto alle persone normali quindi non so mai quando parlo se rischio di farmi fraintendere oppure di far rimanere male qualcuno o meno ma alla fine che un'anima che ormai dalla mia vita è uscita perché è venuta a mancare nella mia vita non ci tornerà comunque mai più vita terrena intendo quindi alla fine che si sia reincarnato che sia lì e mi stia guardando dalla nuvoletta o che sia andato a farsi gli affaracci suoi da un'altra parte non mi serve a niente saperlo a cosa mi serve grazie se hai accumulato più consapevolezza facendo determinati percorsi e esperienze e magari sei attirato in una dimensione migliore cioè più affine al livello di consapevolezza che hai raggiunto mi viene da pensare questo aspetta il concetto è giusto fra ma è un po' in errore il modus di pensarlo cioè è vero che più sei consapevole più la tua anima ha già imparato e più andrai in mondi maggiormente evoluti maggiormente aperti oppure hai la sfiga di tornare in questi per aprire gli altri ma quello è un altro paio di maniche che quando c'è l'amico marfi che decide di farti fare determinati percorsi alla bottisatva ma quello lì è un altro ripeto è un altro paio di nuvoletta di fantozzi sopra la testa e via però sì normalmente più l'anima è evoluta e più avrà la possibilità avendo una certa apertura e una certa già esperienza di andare in mondi più evoluti e più aperti che però non significa che siano migliori più belli più gentili e quant'altro quindi è lì che sta la differenza ma lì si è bloccato di nuovo tutto perchè allora vedo alcuni punti di luce dietro le tue spalle alcuni sono piccoli e altri sono grandi e io quando parlo non vedo mai una cippa poi dopo con calma magari lo riguardo e vedo se trovo cose one moment ragazzi abbiate pazienza sono indietro di 70 siamo in 77 ma sia come siamo in tanti 78 ogni tanto dal pc si blocca tutta la baranda e quindi io devo riaprire la situazione se apro dal telefono i messaggi non riesco a salire perchè si si inceppola tutto oh a ritorno eh eh che vuoi oh apriti sesamo ce la facciamo? ah Belin Teresa no senza offendere le Terese è un modo di dire Belin Teresa no perchè invece ho pensato che c'è anche gente che si chiama Teresa allora mmm continuo domani ad ascoltarti buonanotte buonanotte Eugenia fa figo e ci sono appena arrivata ciao Melania grazie grazie sei una persona molto interessante mi piacerebbe tanto parlare con te rimarrei a guardarti ma sono distrutta buonanotte Anze grazie per esserci stata ho letto parole magiche e ho imparato a fare le magie in latino mmm si alcuni le usano per esempio c'è quel signore qua sul web che le le passa anche spesso agli utenti e che funzionano bene per le leggi di attrazione appunto in latino mmm Tenka mi pare si chiami ho qualche amica che lo segue assiduamente e sembrano funzionare abbastanza bene quelle frasi per l'attrazione che che rilascia lui non le ho testate quindi non vi so dire so che però gode di tanta stima il signor Tenka e quindi si blocca tutto anche a me sarà facebook ma si guarda io non so perché già la seconda volta che mi si inchiavarda tutto quanto si Valentina i concetti fondamentali sono sui libri però appunto devi avere già un livello tale da poterli comprendere perché non tutto il libro è un concetto fondamentale anche se i concetti fondamentali si possono trovare sui libri e poi non in tutti i libri quindi c'è anche da scremare questo ce ne sono tante di cose per quello che dico è che il libro è un'arma a doppio taglio se tu sei in prima elementare e ti danno un libro di fisica quantistica universitario al massimo guardi le figure e manco le capisci il senso è quello anche se poi come nozioni in quello universitario ce n'è a voglia da imparare reali ma se il tuo livello è ancora la prima elementare non puoi pensare di capire il libro di fisica universitaria il senso è quello lì riguardo alle legge di attrazione anni fa studiavo psicologia la mia vera passione ho pensato tante volte con emozione al giorno della laurea davvero fino a emozionarmi da sola poi il mio ex marito con la sua gelosia me lo ha impedito e non ho potuto continuare mi sono chiesto tante volte sta legge di attrazione che addirittura mi emozionavo da sola al pensiero del giorno della tesi perché probabilmente se tu fossi riuscita ad arrivare al giorno della laurea sarebbe andata proprio come tu immaginavi ma per sfiga o per scelta tutto il casino che hai passato con l'ex marito faceva parte proprio di ciò che tu dovevi imparare in questa vita quindi di uno dei tuoi nodi del destino e le cose appunto hanno cozzato il problema è stato lì è per quello che non ha funzionato la legge di attrazione lì come dicevo prima ci sono appena arrivato ok l'avevo letto un punto del destino può essere ad esempio incontrare sempre persone tipo false che ti screditiano sempre non so perché incontro sempre persone così nonostante io sia una persona che aiuta sempre sarà che sono un pesci sfigato beh guarda c'è da dire una cosa sui pesci e ne conosco un bel po' hanno un po' quella tendenza a non riuscire a valutare veramente le persone che hanno davanti non è una critica verso quelli dei pesci per carità anzi forse per il troppo buon cuore appunto però hanno questa tendenza a non capire bene la persona che hanno davanti soprattutto quando sono persone nuove hanno talmente tanta speranza di trovare la persona buona l'amica vera l'amico vero e via dicendo che ci buttano sopra le persone appena conosciute tutte queste speranze e gli buttano davanti proprio una sala cinesca che non riesce a fargli vedere la realtà delle persone che incrociano e questo è un dato di fatto proprio si ci sono delle tecniche ci si allena esatto ci sono libri due nello specifico che parlano di viaggi astrali beh ah si Melania aspetta allora per quanto riguarda i libri ci sono tanti libri con delle tecniche tecniche per l'astrale tecniche per la telepatia tecniche di meditazione tecniche come quelle che sto insegnando io sul mio canale ultimamente che sono quelle di sciamanesimo e quant'altro le tecniche si i libri tecnici con esercizi tecnici vanno sempre bene tutti i libri che insegnano le basi di una determinata cultura di un determinato culto come anche l'esoterismo la ritualistica ci sono quelli sulle cere sulle candele ci sono quelli sulle erbe ci sono quelli sui gli oli essenziali ce ne sono tantissimi quelli si per quanto riguarda invece il mondo del paranormale il discorso è più complesso perché chi li scrive normalmente tende a metterci anche la sua opinione personale quindi ripeto per leggere quelli bisogna prima conoscere le basi reali del mondo del paranormale di modo da poter togliere tutte le cavolate che hanno messo in mezzo alle quattro cose sensate dentro a un libro sono due cose diverse sveva le cose le sensazioni e i piaceri insieme alle paure di questa vita le abbiamo perché abbiamo vissuto qualcosa del genere nelle altre vite come l'esempio che facevi prima per le ansie e le fobie beh alcune si alcune no alcune dipendono proprio dal nostro percorso in questa vita perché noi comunque abbiamo il mix delle emozioni che ci pervade che è una parte emozionale arriva dai ricordi animici ma una parte emozionale di noi arriva dalle nostre esperienze terrene di questa stessa vita quindi lì va analizzata poi quale in che modo quando accade e da lì autostudiarsi autoproprio psicoanalizzarsi facendo la regressione ho sentito di avere una forza sovrumana come se nessuno potesse farmi del male sia fisicamente che psicologicamente è stato bellissimo avevo una carica pazzesca in quel momento mi è venuto fuori il nome di Odino non ho visto nulla avevo solo sensazioni e sentivo questo come se mi fosse stato suggerito questo nome guarda lì potrebbe essere un po' di tutto e un po' di niente nel senso che potrebbe essere appunto essendo una regressione un ricordo animico magari di qualche vita dove eri molto legata alla divinità nordica di Odino per esempio un suo sacerdote sicuro del dio oppure un guerriero molto affidato a quel dio oppure potrebbe essere che l'entità che qui da noi verrebbe definita come una divinità preposta sia una delle tue guide Odino e in quel caso ti da sicurezza perché è una delle tue guide quindi legato a te come guida dovrebbe essere stata chiarissima ora ho capito perché non riesco mai a spendere il mio denaro come vorrei ma va a finire che lo uso sempre per aiutare chi mi sta vicino quando riesco a spenderlo per aiutare chi mi sta vicino che io non ne ho mai neanche ma quel poco che ho mi fa pure piacere il mio invece di nodo è spenderlo tutto in bollette e robe che si rompono in casa quindi sono un pelo più sfigata magari potessi aiutare gli altri lo farei con tutto il cuore prego bra ma lei è una strega o medium la conosco da poco io in realtà sono una medium involontaria e sono una studiosa del paranormale in generale quindi sono una studiosa di occultismo esoterismo ritualistica spiritismo sciamanesimo e tantissime altre dottrine ma come studio non pratico non sono una strega nel senso che non faccio ritualistica né a pagamento né gratis a nessuno non faccio le carte non leggo il futuro non faccio il pendolo io non faccio servizi ai vivi le uniche cose che faccio ai vivi sono queste le spiegazioni sia nei video che nelle live scrivo i miei libri quindi sono scrittrice e scrivo ciò che io conosco del mondo che conosco studio sia sui libri ma tanto io chiedo direttamente alle entità avendo la fortuna di vederli di poterci parlare ma non le chiamo quindi non posso fare la medium che chiama la nonna che ti manca sono le entità che vengono da me a volte per determinati motivi quindi io sono più a servizio delle entità che non dei vivi poi per quanto riguarda i vivi la sfera dei vivi appunto do queste spiegazioni cerco di aiutare a comprendere questo mondo a non cadere in truffe e in bugie in generale su questo mondo insegno un po' a ragionare sempre su questo mondo questo sono io mi definisco strega in quanto conosco le tematiche le studio le tematiche che riguardano l'esoterismo l'occultismo in particolare e altre diramazioni diciamo magiche la magia in generale ma non la applico non sono una ritualista non lo voglio neanche essere non sono neanche una veggente e non lo voglio neanche essere non riuscirei a seguire queste cose continuo domani buonanotte Dania grazie per esserci stata Ilaria buonasera amore se in una vita passata siamo stati in una dimensione molto diversa il nostro cervello attuale farebbe tanta fatica a capire quelle visioni questa cosa può influenzare i ricordi durante le regressive nel senso è possibile che le memorie animiche che non sapremmo decifrare vengono inibite? assolutamente sì inibite cambiate mescolate perché ti spiego se in un'altra dimensione in un altro pianeta mettila come vuoi noi bevevamo cose fatte così questa è la colla U ma è per fare l'esempio bevevamo cose così e invece in questa dimensione questa è la colla U allora se io sono una bambina che non la conosce e vedo per la prima volta questa cosa il mio istinto animico ricordando che nell'altra vita la bevevo mi verrà distinto di provare a mettermela in bocca quando da adulta capisco che questa è una colla U e non si beve e la uso come colla ma poi quando vado a dormire nei miei sogni si mescolerà la conoscenza e la memoria mentale di questa vita quindi quella materiale il mio cervello umano con la memoria animica che nella fase di REM esce e viene si mescola alla memoria materiale e quindi magari capiterà che posso fare un sogno dove per esempio sto incollando un quaderno a un certo punto apro la colla e me la bevo perché ho sete ovvio che poi in questa vita qua mi sveglio e dico ma che sogno del cavolo ho fatto mi bevevo la colla perché non ci arriverò mai a quell'idea se una cosa ha una forma ha un effetto che noi in questa vita non conosciamo il nostro cervello umano se affiora quel ricordo nella mente animica soprattutto ripeto in fase REM quindi quando dormiamo affiora questo ricordo e la nostra mente materiale non lo capisce potrebbe escluderlo completamente quindi bloccarlo ma potrebbe anche mescolarlo e farlo sembrare una cosa che magari ci assomiglia si funzionano le parole di Tenka le ho testate su di me varie volte si appunto so che ha Ingo tre le utilizzate e vedo che c'ha un bel seguito quindi magari ha delle buone riuscite il suo metodo io non l'ho mai testato ne ho sperimentato quindi non so dire oh la mia guardianella buonasera buonasera sono nuova la sto ascoltando sono attirata da questi discorsi mi fa piacere grazie spero che ti troverai bene e che ti interessino sempre gli argomenti ciao Cristian sono sogno sempre di volare quando mi sveglio mi sento bene è un sogno ricorrente sai dirmi il significato ma guarda io non studio l'oniromanzia in generale però in psicologia e anche in psichiatria che non è paranormale sognare di volare significa che stiamo vivendo dei periodi in cui ciò che dobbiamo affrontare o ciò che ci circonda ci opprime e la nostra anima ha voglia di libertà avrebbe voglia di mollare tutto e allontanarsi di solito in psicologia sognare di volare spesso vuol dire questo come per esempio sognare l'acqua intorno di solito in psicologia sono ricordi pre natali ricordi e nostalgie di quando si era bambini di quando si era in pancia e via dicendo però non hanno un collegamento a livello paranormale a meno che non ci siano altri indizi che possono indicare che sia dell'altro ciao Raffaella parliamo di reincarnazione stasera c'è modo di conoscere i propri nodi del destino ma guarda intanto ci si fa caso se uno è niente niente un pochino sveglio e conosce il fatto che esistano questi nodi del destino te ne accorgi perché quando una stessa situazione ti si presenta una volta è successo ti si presenta una seconda volta uguale e può essere un caso io non credo al caso però mettici che due volte può essere un caso quando alla terza ti trovi nella stessa identica situazione vuol dire che quella situazione la devi affrontare in maniera completamente diversa da come le hai affrontate le altre volte e lì hai quasi la certezza che sia uno dei tuoi nodi però ecco non è che si possono scoprire tutti si possono fare anche delle mappature a livello astrologico io non sono molto legata al discorso astrologico perché c'è troppo da studiare e poi a me non interessa fare le veggenze ai vivi quindi comunque non mi ci metto però ci sono delle mappe planetarie ci sono le congiunzioni familiari ce ne sono diversi che aiutano un po' a comprendere alcune tappe di queste nostre vite terrene però sono tutti sempre indizi non c'è mai la cosa concreta cioè il giorno tale devi far così e non così quello non lo troverai mai se no non avrebbe senso venire qua è come fare le parole crociate e andare a cercare tutte le risposte dietro al blocchetto yes si è una medium esatto medium e studi e studiosa non ho capito la risata Valentina ma spero che sia una risata simpatica avevo intravisto un video in cui parlava di fatture eccetera quindi vorrei sentire lei grazie comunque mi sembra di averti risposto spero se hai perso il mio messaggio e quando mai io non ne perdo i messaggi cerco di riscriverlo in sogno mi vedo sempre magra ma io non la faccio ogni romanzia che ne so dei sogni che mi chiedete tutti i sogni mi vedo sempre magra e a volte bionda come una vita precedente che ho visto ero bionda quindi nei sogni se vedo me stessa ah ok allora va bene se vedo me stessa bionda può essere una vita precedente o il mio desiderio di essere magra beh il desiderio di essere magra ti vedresti tu come sei adesso però magra non c'entra niente con l'essere bionda a meno che tu non voglia anche farti bionda se tu vorresti essere bionda e magra il discorso magari può essere invece che vorresti essere così devi far caso più che altro ai dettagli cioè quando ti vedi di magra e bionda come sei vestita l'ambiente intorno a te com'è perché da lì puoi capire se ci sono delle sfaldature temporali quindi sei vestita anni 50 sei vestita la 1600 potrebbe essere un ricordo appunto regressivo se invece sei sempre tu nell'epoca moderna tutta uguale identica ma solo magra e bionda magari è un tuo desiderio intrinseco che io se dimagrisco me faccio bionda e poi mary limon roche cansa te che è un altro paio di maniche Claudia buonasera io infatti in un libro ho letto tante eresie esempio che ai defunti non va bene mettere le candele perché si angosciano appunto che dico i libri sono belli insegnano tanto ma devi avere delle basi tu se vuoi leggere un libro devi aver imparato a leggere siamo sempre lì non si può fare di tutta l'erba un fascio dipende chi e dipende anche da che libro dipende da tanti fattori io sono un amante dei libri lo sapete ho librerie piene scrivo libri quindi sono anche una fan di chi legge però bisogna leggere sempre in base al proprio livello altrimenti non ci si capisce niente significa ecco che è arrivata la sorella lei fa ogni romanzia quindi lei lo sa Rita Canu io sono innocente ma lei studia i sogni significa che ha ambizioni ma anche il voler andare lontano più in alto possibile dalle problematiche di giorno lo sapevo vedi che me la ricordavo sta cosa psicologica ho buonasera Silvia se ben ricordo una volta dicesti che nelle diverse reincarnazioni il segno zodiacale è sempre lo stesso si l'ho detto anche prima allora essendo una pesce sarò stata sempre una che invece troppo sugli altri quindi è una maledizione beh non è una maledizione dipende poi anche da come va il corso della tua vita non è che sempre sempre comunque becchi solo stronzi cioè ci sono anche eh delle vite dei momenti della vita dove invece la fiducia sugli altri è anche ben riposta per fortuna cioè voglio dire non è il mondo fa un po' schifo però non è che proprio proprio bisogna essere così negativi ti rispondo solo io ti rispondo io anche se vuoi sentire solo lei è una medium involontaria non si occupa di malocchi e fatture nella nostra congrega siamo quasi tutte streghe io mi occupo di malocchi e fatture bisogna essere una medium una scrittrice una studiosa una sperimentatrice dell'occulto e del paranormale esatto ciao cosa ne pensi della scuola del cerchio di Firenze 77 ma ci stavo un po' in mezzo ci avevo anche un paio di amici che seguivano quel filone ideologico ma alla fine mi sa tanto comunque sempre di gruppo chiuso alla massoneria style e anche i massoni che se ne dicano se ne dicano che hanno i segreti dell'occulto e dell'universo in realtà poi di segreti ne hanno ben pochi hanno più regole che segreti quindi insomma sicuramente studiavano studiano perché ce ne sono ancora da qualche parte ma anche loro hanno la pessima abitudine come tutte le congreghe quasi umane di mixare credenze antiche credenze arcaiche pezzi di religione qua e la convinzioni imposte inventate dall'uomo in cose che comunque in realtà quelle regole quelle convinzioni non ci sono non ce l'hanno è un altro gruppo pseudo massonico come tutti buonasera buonasera silvia io una domanda quando le entità contattano cosa chiedono per la maggiore si rivolgono per un aiuto o per altro ma in realtà melania alle entità quello che interessa è raccontarvi la loro storia fare in modo che dopo che hanno parlato con te tu li pensi li ricordi ti vengono in mente racconti la loro storia o l'incontro con loro ad altre persone perché alla fine quello che gli interessa di più è sempre il farsi pensare e non c'è niente di meglio che raccontarti la mia storia di come sono morto per farti pensare a me poi c'è il defunto mirato che sta cercando una cosa una persona un luogo perché magari non lo ricordo perché magari è rimasto attaccato ancora alla mentalità di quando era vivo o perché ci tiene a una determinata cosa come può essere un'eredità una cosa nascosta eccetera però sono casi sporadici anche se i film li fanno solo su quello la maggior parte vuole solo e dirti siediti che ti racconto la mia storia poi se la racconti anche in giro mi fai un doppio favore niente di più perché più li pensi più li ricordi più ti vengono in mente più conosci la loro storia più rimani energia ciao 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 è successo una cosa strana ho trovato in casa in cucina nel lavandino un bofonchio nero era anche grosso non so cosa sia un bofonchio mai visto una cosa del genere il giorno dopo mio padre è stato molto male non so cosa sia un bofonchio perdonami no non ho la minima idea di cosa sia anche io funzionano molto bene anche io a volte le incido sulla candela ah si del discorso di di Tenka buonanotte Manuela ma dietro di te proprio dove c'è Lady Ghost vedo quasi una sagoma è possibile che sia fatta della mia immaginazione o è così ma sai che da quelle parti ormai in 3 4 5 video appare di continuo io adesso non mi auto vedo così devo analizzare il video all'altro modo per vedere perchè non vedo sinceramente perchè non guardo lì guardo il pc per leggere e quindi non me ne accorgo ma è già qualche 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 live che appaiono e scompaiono cose laggiù ragazzi mi si è di nuovo aggiornato tutto io riparto da dove sono e poi allora scusi ma se ha le pezze al culo niente mi è salita ma tanto non ho capito questa che scusi scusi lei ma tu pensi che una strega debba farsi gli incantesimi per diventare ricca per se stessa? perchè le streghe che fanno rituali per diventare ricche per se stesse queste queste sono quelle che a me non è che piacciono tanto quindi se dobbiamo parlare di quello è meglio chiudere quel discorso ripeto mi definisco strega ma io sono una studiosa a me non interessa né fare i soldi né ottenere ciò che voglio e non faccio rituali appunto non ne faccio non chiedo niente all'universo io vivo bene con quello che ho non chiedo niente all'universo e non chiedo niente neanche alle persone che è un discorso ben diverso quindi se dobbiamo parlare di quello se non vuole giudicarmi strega a me non me ne può fregare di meno io so cosa sono io ma so anche che non faccio nulla per soldi o per interessi e non faccio nulla neanche verso l'universo perché io non chiederò mai di essere aiutata a vivere bene a vivere meglio non farò mai questo tipo di rituali di magie cose varie perché c'è sempre lo scotto da pagare e prima o poi arriva inoltre non mi interessa dire di essere una strega potente non me ne frega una mazza preferisco definirmi una studiosa preferisco definirmi una persona che apre gli occhi agli altri che aiuta le persone se non altro con quello che conosco che è comunque un aiuto anche se non posso in altri modi se poi per lei le streghe sono quelle che fanno i rituali e vivono nelle ville buon per loro ma se ti do così fastidio domanda signora come ti chiami non mi ricordo più Valentina perché stai sulla mia pagina a seguire la mia live domanda a me quando una persona non mi garba non la guardo non capisco se tenti di sminuirmi e stai ottenendo l'effetto completamente contrario perché qua mi seguono tutti perché mi conoscono da anni e quindi quella che poi sta sulle palle a tutti sei tu e non io a prescindere stai facendo proprio una mera figura senza nessun motivo perché io non ti ho cercato non ti ho attaccato nemmeno ti conosco e tu spari che io sono una supercazzola perché secondo te le streghe devono essere ricche beh se manciano sui poveri cristi che hanno bisogno di aiuto sicuramente diventeranno anche ricche peraltro ne conosco anche di ricche ma non è il mio caso e non voglio neanche che lo sia ripeto non capisco da dove arrivi tutta questa tua avversità i libri vanno letti punto e leggili che vuoi da me io li leggo non ho mica determinati problemi non la capisco st'attacco sei così repressa da non avere niente di meglio da fare che andare nella pagina di una che ti sta sulle palle e rompergli le scatole non riesco a comprenderti ma chi sei ma chi ti conosce ma stai facendo veramente la figura non oso neanche definire quale vabbè comunque io vado avanti con le persone che meritano risposta perché a sto punto mi ha attaccato senza nessun motivo partendo con domande sue definendomi non strega supercazzola per quale motivo non si sa perché è repressa perché si annoiava stasera perché gli hanno dato buca non ho capito i misteri di internet comunque passiamo alle persone normali forse meglio buonasera graziella ma si no guarda io proprio evito anche le risposte non hanno senso allora e siccome noi voglio vedere come operi per beneficenza con un demone della quarta cagorta con chi stai parlando non ho capito melania ma qua stasera visticiate tutti senza nessun motivo io non sto capendo più niente stavamo parlando di rincarnazione tanto bene per i cavoli nostri non capisco ste litigate e vabbè posso chiedere se succede mi è saltato tutto ok ragazze non polemizzate siamo noi in chat non rispondete allora non conosciremo i cosi stanno scannando tutti non si sa bene il perché che sta succedendo ciao solilux dico ciò che penso una vera strega non vende il proprio sapere io sto comunque leggendo anche se non rispondo e valuto chi si vuole far pagare stasera sono stronza qua stanno picchiandosi tutti ricche non ricche ma stavamo parlando di rincarnazione sveva selezione di vita grazie Ilaria sei una strega studiosa meravigliosa ma infatti io sono una studiosa ripeto mi definisco strega per la questione che studio l'esoterismo e la ritualistica ma non la applico io non faccio ritualistica né gratis e né a pagamento non la faccio io ne parlo solamente punto fine del discorso quindi non capisco tutto questo maradà maravieni boh silvia sei fantastica grazie silvietta io boh stavo parlando di rincarnazione che non c'entrava un belino poi questa cosa probabilmente si sono toccate hanno paura di perdere i clienti mmm non ne so niente io non sto attaccando nessuno io sto parlando di quello che faccio io infatti mi sto dicendo a lei io personalmente non ci metterei le mani se una persona non paga anche perché come faccio a sostenermi se lo faccio come missione cioè come mi mantengo ma infatti io non ho mai detto di non farlo a pagamento o meno sono questioni vostre personali io non lo faccio né a pagamento né gratis io insegno quello che posso insegnare a tutti in maniera gratuita ma per il resto a me non me ne frega niente se una si fa pagare o non si fa pagare con me non me ne frega niente se uno vuole andare a pagamento vuole andare gratis non sono cose che rientrano nella mia sfera non capisco tutta sta roba almeno nella mia live che non ha nessun senso di essere io do le mie spiegazioni scrivo i miei libri punto fine non ho mai attaccato chi si fa pagare non ho mai attaccato chi non si fa pagare non me ne frega una mazza né dell'uno né dell'altro anche perchè io non faccio di questi lavori né a pagamento né gratis e lo ripeto non faccio veggenze non leggo le carte non faccio rituali non tolgo fatture non tolgo malocchi non faccio un bellino io con i vivi do solo spiegazioni insegno a conoscere il mondo del paranormale tutto lì fine poi se quello che insegno invece dà fastidio a qualcuno questo è un altro paio di maniche perchè le persone oneste spiegano comunque le cose per come stanno senza cercare di rinfinocchiare gli altri allora un altro paio di maniche ma se uno fa il suo lavoro onesto che sia un ritualista che sia un cartomante che sia un quello che è per carità fa bene a farlo anche come lavoro sono affari suoi l'importante è non truffare le persone che sono due cose diverse un conto è fare il proprio anche con il giusto guadagno e l'ho sempre detto anche nei miei video un conto è impapocchiare la gente non facendogli capire una mazza e cercando di spingerli solo per farli spendere quella è un altro paio di maniche quella allora è una truffa non è un servizio a pagamento quindi bisogna vedere di che cosa si sta parlando grazie Silvia ma no è così è giusto che sia così ciao SuperSv ma finalmente riesco a seguirti un po' in tranquillità in tranquillità Sabri si stanno scannando tutti qua su sta chat non si sa bene il perché ma si stanno bisticciando tutti alzandosi al mattino e facendoti il culo lavorando come tutti non sto capendo brava Silvia rimani così come sei annoveri bene ah ma io rimango così come sono non ho nessuna intenzione di cambiare Silvia non rispondere a questa qui è la solita utile idiota che ogni tanto escono nelle dirette eh ah Gabri ma io boh mi faceva domanda e io rispondo a tutti per carità però non capisco l'arroganza e l'attacco verso di me quando non so forse pensava di fare la figura dell'erudita e della più grande di me in qualche modo non ne ho idea boh ma eppure boh io non mi sono mai definita né più grande né più piccola di nessuno io sono io e gli altri sono gli altri Anna Maria Sveva sei stupenda i commenti delle litigate non li rileggo perché non mi sembra neanche molto educato e quindi evito salto ti amiamo grazie perché mi interessa capire lei chi è e quali conoscenze può trasmettere ok Valentina allora a me piacerebbe capire tu chi sei perché ti do del tu tu chi sei e quale diritto hai di farmi tutte queste domande semplice per quale motivo sono sotto processo sei un giudice inquisitore che devo delle risposte sul chi sono e quali conoscenze ho chi mi conosce chi mi segue lo sa chi sono e a me basta questo non non so chi ti possa dare il diritto di farmi determinate domande ma chi sei tu che non t'ho mai visto e non t'ho mai parlato in vita mia qui ti seguiamo ti amiamo e ti stimiamo e siamo pronti a difenderti sempre ma non è questione di difendere e questi a me fanno ridere queste cose io mica me la prendo e che trovo assurdo che una persona mai vista conosciuta con la quale non ho mai avuto niente a che fare proprio non so nemmeno chi sia e non mi interessa neanche andare a vedere chi sia venga e pretenda di avere risposte da me inquisendomi ma chi sei ma chi te conosce ma chi te vuole mi scappa da ridere su sta cosa ma è un assurdo ma non do i miei documenti nemmeno ai carabinieri a momenti per la strada devo venire a darti spiegazioni a te chi sono ma scherziamo davvero non do spiegazioni a mio marito quando faccio tardi a casa e do spiegazioni agli altri grande sveva grazie sabri ti adoro brava lascia perdere da quando ti seguo mi hai tolto tanti dubbi ma io non lascio perdere tutto io non ho voglia di discutere di bisticciare ora perché sto leggendo e quindi un minimo di risposta a tutti la do ma a me io non ho mai bisticciato con nessuno me ne frega la mazza oltretutto parla in live dove di strega ce ne sono parecchie sta facendo una gran figuraccia ma è quello che ho detto anche prima cioè da come si è proposta all'inizio chiedeva informazioni ci si scambiava l'opinione e la cosa mi stava anche bene perché puoi anche non essere d'accordo con me per carità ma da lì a offendere e attaccare senza motivo hai fatto una figura di merda nessuno ha pensato di stimarti per quello che hai scritto i modi sono stati maleducatissimi e anche abbastanza ignoranti dal punto di vista di una persona che poi spinge gli altri a leggere libri perché sono fondamentali e boh ma eppure boh comunque purtroppo la gente è cattiva ma sì ma io più di tanto ripeto se uno io non giudico se uno è buono o cattivo ma normalmente ho l'abitudine di approcciarmi in maniera gentile ed educata anche con le persone con le quali non sono d'accordo mmm sì sì no 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 Melania ma io non c'entravo niente col vostro discorso infatti non mi sono neanche impiciato io rispondevo solo a chi parlava con me preoccupa infatti persone così meglio di ignorarle è entrato il gruppetto delle piglia per il culo ah non lo so io ho seguito solo un pochettino la consvema sono due che attaccano non lo so io ho visto soltanto una che attaccava a me no Valentina democrazia è parlare e raffrontarsi in maniera educata civile senza sarcasmo e senza sottolineare che quasi quasi si è migliori degli altri se ci si rapporta con un sorriso e con una domanda per capire meglio l'una e l'altra è democrazia ed è parlare se uno si eleva invece a superiore schernendo l'altro o facendo domande e diciamo ma tu chi sei per di queste cose che mi sembri un po' il marchese del grillo lì non è democrazia ed è un attacco un attacco di maleducazione ma un attacco perché io quando mi rapporto anche con le persone con le quali non sono d'accordo sorrido faccio domande e poi eventualmente in maniera molto educata e gentile dico la mia opinione non faccio la sbruffonata quello si chiama attacco peraltro senza motivo ripeto perché fa solo la figura dell'essere arroganti e gli arroganti alle persone non piacciono ma non a me che non me ne frega niente se mi piace o non mi piace ma in generale non si fa una bella figura ciao ciao spesso da lavoro ripeto domani tranquilla Tamara buona serata a lei 183 commenti ora mi devo rimuovere siamo 90 utenti mi è saltato di nuovo tutto mi si è bloccata la connessione e ora cerchiamo di riaprire che stasera si sta scatenando l'inferno senza nessun motivo si parlava di reincarnazione ma avessimo parlato di ritualistica esoterismo potevo anche capire che non lo capivo lo stesso perché l'arroganza e il sottutto io anche da parte mia non è mai esistito ho sempre detto per mio parere o per mie esperienze personali non ho mai dato per assoluta la mia parola perché non esiste perché ognuno deve avere le proprie opinioni quello è un altro paio di maniche però vabbè i commenti dove vi offendete a vicenda ragazzi non li ripeto perché poi nel video mi rimangono fuori e non mi sembra una cosa carina anche per gli utenti di youtube dove poi metto il video chi conosce sveva non può non amarla e rispettarla appunto ci sono modi e modi per un confronto ma questo non era un confronto ma un attacco di cattiveria gratuito ma io boh infatti non ho capito tutta sta sta tragedia su boh non ha senso stavamo parlando educatamente e in maniera gentile amichevole come sempre peraltro sulla reincarnazione che era il discorso di stasera ma infatti mi sto attenendo solo che ci sono 500 messaggi tutti di gente che si scanna un minimo visto che il video va avanti e poi lo metto anche su youtube vorrei che qualcuno almeno che segue quel video capisse mica peraltro ragazzi io ripeto non ho visticiato con nessuno ma infatti io volevo parlare di reincarnazione ma qua se scannano eh brave torniamo all'argomento reincarnazione che era quello di questa sera ma tanto voglio dire le offese le frecciate non servono a niente quindi chi se ne frega non ha nemmeno senso ciao Angela c'è una grandissima persona speciale io ti seguo sempre grazie ma comunque vabbè torniamo ragazzi tra di noi interessati invece all'argomento che è la cosa migliore e parliamo appunto dell'argomento della serata che le polemiche sono inutili sterili e non servono assolutamente a nulla ma oddio si servono lo stesso eh perché mi aumentano a dismisura i commenti e quindi la visualizzazione del mio video va ancora più avanti per carità anzi per me è solo un gran favore a prescindere io l'ho sempre detto sia i lovers che gli haters a me vanno bene tutti alla fine i commenti mi aumentano la visibilità di conseguenza però mi dispiace vedervi scannare così senza motivo io voglio reincarnarmi in piena epoca barocca io invece voglio tornare nella mia dinastia in Cina voglio tornare lì lauretta voglio tornare lì sì amor rifammi la domanda Luana perché qua mi è saltato tutto non si capiva più niente sveva il filo d'argento può per attaccato perso reincarnarsi in un animale per stare vicino ma è difficilissimo che lo faccia perché non avrebbe senso in quel caso lì perché per stare solo lì vicino nel senso di attaccato non avrebbe nessun senso ti vede ti segue meglio sei di là volendo può eh nessuno glielo vieta allora aspetta eh io ti faccio la domanda così mi porto sulla strada ci stanno provando in due o tre ma aspetta adesso che ti perdo puoi parlare di reincarnazione di entità elevate in esseri umani sono possibili? allora in quel caso lì non sono reincarnazioni ma sono incarnazioni sì è possibile ma non lo fanno per le motivazioni per la quale le facciamo noi noi le facciamo solo per seminare nuovi ricordi fare qualche esperienza e avere quindi nuove energie poi da sfruttare nell'oltre mentre invece le entità elevate quando si incarnano hanno sempre dei motivi dei piani delle questioni differenti in generale in generale qualcuno ricorda il titolo del video di Sveva per la meditazione sulle vite precedenti? regressive adesso non posso cercare i titoli precisi Samuel non me li ricordo mai ma non posso aprire adesso il canale se non mi si inchiavara di nuovo tutto credo che si intitolasse comunque regressive e qualcos'altro se non sbaglio Sveva nelle nostre vite precedenti potremmo aver avuto sesso e orientamento sessuali diversi? assolutamente sì mille volte l'anima non ha sesso non c'è una sessualità dell'anima e quindi Alessandra io sono stanca voglio rimanere nell'altra dimensione ti adoro Ale bisogna che evolviamo fino a tal punto da sapere come attirare le energie di là senza dover tornare di qua c'è un po' da lavorare ma ci si può arrivare perché talmente i messaggi hanno andato troppo oltre volevo chiederti se vi è mai successo di unirvi e invocare i quattro elementi per qualsiasi motivo sarà una domanda banale tratto da film ma sono troppo curiosa sai cosa in realtà lo abbiamo pensato alcune volte soprattutto quando ci sono stati dei disastri abbastanza pressanti in alcune zone eccetera per cercare di parare appunto un po' il disastro però poi ci siamo immediatamente frenate perché perché poi comunque conoscendo com'è la realtà delle cose e quindi che ogni cosa che accade fa parte del disegno preciso del destino di molti abbiamo deciso di non intervenire in nessuno di quei casi perché se era successa quella cosa voleva dire che era nel destino di alcune persone animali e via dicendo che andasse in quel modo quindi alla fine ci siamo trattenute e non abbiamo mai fatto questo tipo di invocazioni diciamo di congrega l'abbiamo lasciato perdere figura teoriana ci mancherebbe a meditazione regressiva due grazie auto mi ricordavo che c'era regressiva o regressione ma non mi ricordavo il resto Sveva finisco di vedere il video domani buonanotte a tutti buonanotte a te grazie fate i bravi non riesco a salire dopo un guardo Sveva ho una curiosità ma i bimbi abortiti si incarnano in un'altra vita accanto a te o come allora no quella è una speranza che hanno normalmente i genitori di chi li perde ma diciamo che non è una regola fissa e anzi succede molto molto raramente può succedere può succedere però è un discorso abbastanza raro era successo un caso famoso per esempio le gemelle Pollock che è estremamente famoso se lo cercate su internet trovate tutta la storia però non erano abortite lì ma avevano avuto un incidente erano morte piccoline poi pare che siano tornate nuovamente come sorelle di nuovo nella stessa famiglia ma appunto sono casi particolari a prescindere dall'abortito o non abortito sia in versione spontanea sia in versione cercata perché perché il discorso dell'anima dentro al corpo non ha delle tempistiche quindi può l'anima può entrare dentro al corpo dallo stesso momento dallo stesso istante del concepimento ma può anche entrare al secondo prima o anche secondo dopo che è già uscito dalla mamma quindi non è detto che tutti gli aborti abbiano un'anima al suo interno quando l'anima non c'è non c'è nessun defunto era solo un involucro vuoto quando l'anima c'è di solito vengono chiamati in occultismo i mai nati e rimangono come animelle di solito intorno alla mamma la aspettano finché anche lei non sarà di là con i suoi tempi con la sua vita e per rincontrarla poi da lì decideranno il loro percorso normale anche perché l'anima non è bambina le anime non ci non sono anime di bambini anime di adulti anime di anziani e quant'altro l'anima ha una una grandezza standard nel senso che non c'ha l'età che aveva quello che è morto non so se riesco a farmi capire però in generale non ci sono delle regole fisse sul fatto dell'abortito non abortito o anche mancato da bambino succede e via dicendo l'essere umano incarnato ha una vita normale o dovrà svolgere un compito preciso normalmente ha una vita particolare ma diciamo non proprio del tutto normale però dipende dalla sua motivazione per la quale è venuto qua non ha i poteri e le capacità che ha come entità elevata perché in parte le sue memorie vengono bloccate come tutti perché il trauma della nascita lo subiscono anche loro quando arrivano di nuovo nella terza dimensione materiale però diciamo che hanno delle vite abbastanza particolari rispetto alla media normale a me questa cosa dei salti delle epoche quando ci si rincarna mi è spiazzata credevo che si andava avanti invece tempo fa è spiegato che si può ritornare nelle epoche antiche questo mi mette ansia beh no si può andare in qualsiasi epoca ma il discorso dell'epoca è un discorso di appunto come si dice di esperienze alcune esperienze le riesce a fare meglio nel 2020 altre le riesce a fare meglio nel 1200 altre esperienze più semplici a fare nel 3000 e via dicendo però non c'è un motivo di ansietà a me è successo esattamente così in più a riequilibrare la mia vita ma per fare questo è morto di nuovo sì perché può succedere ripeto può succedere però appunto questo sono casi speciali e specifici l'eva amor nostro può succedere tra di voi che avete qualsiasi tipo di dono perché non so cosa avesse questo signore molto anziano andò da mia mamma e le scrisse tutta la sua vita fino alla sua morte età compresa io ora non so tutto perché mia mamma mi disse davvero poco solo che alcuni fatti furono successi e che lei morirà all'età di 84 anni cosa ne pensi? beh in generale ci sono persone che per determinati motivi o per le loro guide o per le loro capacità o anche come dicevo prima con desiré ci sono persone che a volte non sono proprio delle anime della terza della quarta dimensione quindi ci sono anche a volte raramente delle entità elevate che si incarnano quindi i motivi potrebbero essere mille mila però che esistano delle persone rarissime che possono conoscere tutta la tua vita nel senso vero della parola assolutamente si può succedere io tempo fa feci betta che t'ho perso io tempo fa feci le meditazioni di Brian West non ricordo come si scrive in preciso il nome così preciso ma sinceramente mi trovo meglio con le meditazioni logiche beh ma tu Meli sei già eh esperta appunto di meditazioni e quant'altro diciamo che Waze è più utile per chi ci si approccia eh agli inizi perché ti dà uno schema preciso da seguire ed è più semplice anche da imparare poi una volta che tu hai imparato la base della meditazione e sei diventata diciamo pratico allora puoi provare a fare altri tipi di meditazione e ehm vedere anche dove ti trovi meglio io per esempio nelle meditazioni yogiche sarà che sono estremamente pigra a livello fisico e anche soltanto stare seduta a meditare dopo un po' mi si scrascia schiena mi si scrascia tutto e invece con quelle diciamo con la tecnica perché io non uso quelle di Waze però uso la tecnica che usa Waze o simili tecniche simili me le faccio da sdraiata tranquillamente tutta lunga sul letto senza eh dover fare mudra particolari o cose posizioni particolari vi dicendo quindi la mia è una questione di mera pigrizia e comodità mentale inoltre sono più brava a visualizzare che non a concentrarmi per esempio sulle respirazioni e su tutta quella serie di processi ma penso che quello sia una questione meramente soggettiva quando invece si inizia e non si hanno ancora le capacità e la pratica di aver fatto meditazione quelle piccoline guidate ti insegnano proprio il modus per iniziare a fare le meditazioni tu considera sempre che io quando do del consiglio delle spiegazioni qui e nei miei video lo faccio per lo più per le persone che hanno poche basi di questo mondo non certo per le persone che sono già a un livello elevato perché loro tantissime cose le sanno già fare anche in maniera molto più precisa di come l'ho spiegata io ma io tendo sempre a cercare di spiegare a chi di questo mondo non sa nulla per lo più e quindi quelle cose più semplici aiutano a iniziare a capirlo svevano un'entità elevata che si incarna in questa vita poi si ricorda chiaramente difficilmente ha dei sentori o può succedere che verso magari dopo una certa età quando arriva un certo fulcro della sua tra virgolette missione qualcuno glielo ricordi glielo dica o riesca ad arrivarci però molte volte invece fanno tutta l'esistenza viene ripatato tutta l'esistenza senza nemmeno ricordarselo fino al momento in cui non si staccano di nuovo a quel corpo cosa mi dice dell'incarnazione delle fiamme ne ho parlato prima Ketty possono incarnarsi reincarnarsi anche contemporaneamente nelle vite correnti non finiscono mai per stare insieme tutto il tempo stile e vissero felici e contenti perché si autodistrarrebbero dai loro compiti e dai loro doveri semplicemente per quello ma ci sono alcuni segnali alcuni segni che possono indicare se in quella vita la tua fiamma gemella si è reincarnata o no e questo comporta per esempio il tipo di persona che ti attrae la tipologia proprio a livello estetico tante tendenze che tu hai verso una cosa piuttosto che un'altra quando invece non hai dei paragoni di stile cioè non hai degli stereotipi fissi che ti possono interessare mi devi lavare tutta la mano allora in quel caso lì potrebbe significare che in realtà non si è reincarnata e quindi tu non hai a livello proprio telepatico inconscio un metro di misura per avere dei tuoi gusti mirati una tua ideologia mirata su cosa ti piace di una persona eccetera andando un po' a tentativi ecco questi sono gli unici forse un po' indizi del fatto se sei reincarnato o meno in quella determinata vita comunque gente mi raccomando pensatemi tanto che io rimango nella piazza dell'attesa ad aspettare Sveva poi mi tiro i piedi se non mi pensate sta cercando di comprarsi le indulgenze lauretta c'è qualcosa che ammettere tantissimo ma è un po' più di un attirare da quando sono molto piccola sono molto legata con gli indiani d'america cosa può essere? può essere che nella vita passata ho vissuto con la vita? assolutamente sì è una delle diciamo degli indizi maggiori e più comuni proprio quello di Tato scendi sei chili di gatto è proprio uno degli indizi che capitano più spesso Sveva secondo te quella regressione collettiva che dicevamo tempo fa si può fare? è che devo organizzarla con i suoni e tutto siccome io non ho mai tempo Gabrie è un gran casino la volevo organizzare in effetti sarebbe stato un bel esperimento davvero devo trovare il tempo materiale questa settimana sono nuova cotta e cucinata fino a almeno a giovedì se riesco a trovare il modo di creare il sottofondo di riuscire a metterlo in sottofondo e tutto possiamo fare un tentativo assolutamente sì però mi ci vuole un po' per prepararmi perché sono cose che o le fai bene o non le fai grazie per la risposta ed è sempre l'anima che sceglie il sesso orientamento sessuale prima di reincarnarsi ma di solito no di solito vieni fuori con il discorso del allora vieni fuori con il sesso che serve per le esperienze che tu hai scelto in quella vita quindi tu scegli le esperienze che devi fare in base alle esperienze che devi fare sei più tendente a reincarnarti in un uomo o in una donna e quello lì è un dato diciamo è una causa effetto per quanto riguarda il tuo orientamento invece normalmente dipende dall'incarnazione o meno della fiamma gemella quindi del filo d'argento quando il filo d'argento nasce uomo tu sei tendente a essere attirato dagli uomini attirato attirato dagli uomini quando nasce donna sei tendente ad essere attirato dagli uomini dalle donne che sia uomo che sia donna tu quando non si reincarna in quella vita siccome vai un po' a cavolo nel senso che quando non c'è non ci sono tutte e due le fiamme gemelle in quella vita in quella dimensione in quel momento diciamo storico allora non hai un metro cioè la tua anima non ha un metro di misura per cui di solito va per tentativi perché comunque la ricerca dell'anima che ci completa è istintiva sia del fisico umano e quindi della della psiche umana materiale e sia anche a livello animico ma non essendoci l'agganciamento telepatico perché quell'altra anima non è in questo nostro piano il nostro interesse può cambiare dall'uno all'altro indistintamente e si lega maggiormente ad altre questioni si viene attratto dall'intelligenza dalla cultura o dal carattere dal modo di fare a volte alcuni hanno l'istinto della croce rossina quindi dai problemi dell'altro da mille mille fattori che però non hanno un'incidenza con la figura sessuale dell'altro quindi non hanno un'incidenza sul fatto che sia uomo o donna si è bloccata la live ho sentito che hai detto credo e poi nulla in merito al tuo video sulla meditazione e aveva me l'avevano trovato era meditazione regressiva due si chiama meditazione regressiva due perché l'aveva trovato poi autumn aspetta eh qua davanti mi serve il riassunto delle puntate precedenti esatto Valentina allora anche i feti possono avere un'anima il mio discorso non era che non ce l'hanno eh ho detto che siccome l'anima dentro al corpo entra in qualunque momento della gestazione alcuni feti hanno l'anima infatti sono i mai nati ho detto semplicemente che può succedere anche che qualche feto sia semplicemente un involucro vuoto però giustamente come dice anche tu non hanno tempi e non hanno una grandezza standard assolutamente si è la stessa cosa che ho detto io prima sveva io ho perso mia zia un mese fa e da allora quasi tutti i giorni trovo cuore ovunque potrebbe essere un suo segno assolutamente sì è uno dei segni che fanno maggiormente quello di mandare proprio cuoricini nelle macchie nelle foglie per terra dovunque assolutamente sì siamo un mondo dei reincarnati lo siamo tutti e a parte qualche anima nuova si stefi rispetto all'età dell'anima talvolta si parla di fantasmini bimbi ma se l'anima non è età cosa significa questo che quando le anime in qualche modo interagiscono con la nostra dimensione assumono anche di là a volte assumono un aspetto e molto spesso hanno la tendenza semplicemente perché se lo ricordano meglio ad apparire con l'aspetto che avevano nell'ultima vita trascorsa per quello che può apparire quello bambino quello anziano però mille volte appaiono anche per esempio la nonna è morta a 90 anni ma quando ti appare ti appare come quando ne aveva 30 però è sempre la nonna succede spero di non dover tornare nelle epoche dove non si lavavano mi sa che la germofobia me la son portata da quelle vite beh oddio io ho una domanda per i bambini che sono nati ma subito dopo morti e tornati in vita si può parlare di un'anima che non voleva realmente incarnarsi? tra l'altro più volte sfiorando la morte ecco è una bella domanda melania un bel discorso perché perché i casi sono diversi alcuni in realtà dovevano passare un'esperienza di premorte quindi di nd e e l'hanno passata una o più volte nell'arco di quella vita terrena a partire da quando erano molto piccoli altri ancora dovevano morire appena nati o comunque dovevano morire da piccoli ma può succedere che se quell'anima ha appena abbandonato il corpo e quel corpo però è ancora funzionale e credetemi che non è tanto raro che succeda un'altra anima che aveva voglia necessità fretta non sapeva che cavolo fare mille mila motivi ci si può infilare dentro tant'è vero che quando capita diciamo a bambini piccoli ma già con una loro caratterialità tipo un anno e mezzo due anni moltissimi genitori si sono resi conto in queste situazioni di nd e quindi di premorte di casi di simil morte che quando sono riusciti a riprendersi avevano cambiato moltissimo certi atteggiamenti certi sguardi certi modi di fare questo perché a volte può avvenire anche questo cambio d'anima cioè quella che doveva fare il suo percorso e doveva morire quel giorno perché quella era l'esperienza che doveva fare in quella vita se n'è andata però magari o perché quei genitori invece non dovevano fare l'esperienza di perdere un figlio Joe piccolo o per altri motivi un'altra c'è subentrata quindi quel corpo tra virgolette è stato sfruttato da due anime per due destini diversi stesso discorso anche per alcuni involucri vuoti che a volte arrivano fino al parto nascono vuoti perché magari l'esperienza del destino era solo quella che quella madre doveva partorire ma poi non c'era un'anima legata a continuarne un destino insieme ma c'era un'anima libera che aveva voglia di ritorno a prima e ci si butta dentro e quindi in qualche modo tornano in vita anche se poi realmente non è la stessa anima ce ne sono tante di motivazioni però succede spesso sia in un modo e sia anche come proprio esperienza animica che devono fare non mi ci far pensare sempre al discorso delle puzzole di prima ma se quell'epoca è già passata come si fa a ritornare ai tempi per esempio nell'epoca vittoriana perché è già passata per la nostra terza dimensione materiale qua dove il tempo scorre ma nella quarta il tempo non esiste e dalla quarta tu puoi tornare in qualunque epoca perché di là il tempo non scorre, non passa, non esiste vediamo se riesco a leggere scusami ma sto crollando ti riesco a sentire domani ti preoccupare Renata anche grazie sempre per esserci stata tanto adesso stacco anch'io ragazzi ma manca venti a mezzanotte ci siamo trastullati tra una cosa e l'altra e qui è andato buonanotte Anna Maria è andato tutto a brioche e fichi secchi vedete che qua mi si è anche inchiodato tutto credo che stanotte sognerò questo teschio ci stava bene a tai quelle yogiche si possono fare anche sdraiati o anche seduti noi lo yoga ristorativo lo facciamo fare alle persone che hanno difficoltà non mi scende mi interessava pure sta cosa persone che hanno difficoltà a muoversi anche malate oncologici persone comunque malate perché purtroppo non possono stare nelle posizioni molto tempo e sta cosa invece io non la sapevo ero andata tempo fa a vedere un paio di persone che appunto insegnavano questi metodi eccetera io ogni tanto quando sono curiosa vado a vedere qualche corso di questo tipo perché le tecniche meditative le tecniche yoga mi piacciono in generale le ho sfrutto tantissimo però appunto la maggior parte erano tutte o da seduti e con posizioni particolari e io dopo un po' più bocigolo perché io sono quella che non si muove mai oppure addirittura con movimenti cioè ero andata a seguire un giorno di prova tra l'altro di un'amica che fa questa tipologia di yoga meditativo ma muovendosi erano dei movimenti molto lenti quasi a ritmo con la campana tibetana peraltro che io subito lì per lì ho detto ma sì perché vedevo lei che si muoveva in sto modo in sto modo e quindi mi sembrava una cosa abbastanza semplice ed effetti era semplice molto lento molto alla fine dell'ora di prova lo guardate ho detto Samantha è stata bellissima ciao non ci vengo più ma mica per qualcosa ero tutta rotta peggio che avessi fatto un'ora di palestra coi pesi e allora e cerco sempre di evitarle queste situazioni di fatica fisica sono una marmotta io lui ma ma voi che avete questo livello interattivo molto ampliato quante vite avete vissuto avete un sapere che è impressionante beh sicuramente non le posso vedere tutte nel senso che mi ci vorrebbe un'altra vita solo per vedere tutte le vite quindi lasciamo perdere ho guardato un po' abbiamo guardato anche con le altre colleghe un po' le principali e già sono tante e che siamo delle anime relativamente antiche questo sicuramente quante siano non te lo so dire perché ripeto almeno adesso da viva non le ho non sono andata ad analizzarle a cercarle tutte ovviamente allora aspetta buonanotte ti rivedo domani buonanotte Silvia grazie per esserci stata io perdo i pezzi l'importante è meditare e non dormire a volte senti certi russi che un pochettino ti viene però è distinto dal cuoricino dopo un po' che sei lì che mediti che vedi il tunnel che passi che scendi le scale che entri nel tuo castello pure nella tua grotta dove stai meditando in base a cosa stai facendo dopo un po' la penichella viene in automatico ammetto che a meno che non becchi proprio in quella meditazione qualcosa di interessante poi da guardare ma se sei alla ricerca di cose dopo un po' proprio il tuo cervello si spegne patato si mister tatino l'altro invece è sempre là che fa il sirenetto quello lì è il suo posto ufficiale lui è il sirenetto a prescindere se io chiedo all'universo di incontrare il filo d'argento dici che mi caga anche se non è senziente cioè come funziona so che comunque non bisogna interferire con le persone infatti lo chiedo io chiedo per me sì però chiedi per te ma interferisce anche sulla sua di esistenza inoltre per regole universali non lo dovremmo nemmeno incontrare a momenti non credo che te lo facciano incontrare perché lo chiedi prova ma non ricordo se lo hai già detto volevo chiederti le nostre guide sono sempre le stesse per ogni reincarnazione un paio sì le altre invece cambiano normalmente a seconda delle esigenze di quella vita e di altri fattori non sono tutte sempre le stesse a livello di reincarnazione notte mami che ho la lezione di coreano buonanotte figlia io sto seguendo le lezioni di cinese ma in sti giorni ho mollato anche quelle perché non posso aspetta eh come è me salito tutto ok come si fa a capire quale sia la propria missione in questa vita beh sai che è un discorso complicato perché gli umani tendono a pensare alla loro missione come se fosse qualcosa di importante e di valore in realtà a volte le nostre missioni sono anche semplicemente andare a dar da mangiare ai gatti o aiutare la signora anziana ad attraversare la strada io dico sempre io dico sempre che non è importante sapere qual è la nostra missione quello che è importante è seguire sempre il nostro istinto e cercare sempre di fare le cose nel rispetto e nell'aiuto di tutti in quel modo lì in automatico esegui sia le tue missioni perché il tuo istinto ti porta e le tue guide ti guidano ad arrivarci e in contemporanea anche la tua coscienza umana ha comunque modo di sentirsi appagata da certi punti che ha raggiunto quindi seguire l'istinto e cercare di fare sempre le cose in maniera benevola e mai malevola o cattiva o negativa è il punto di forza per raggiungere sia i nostri eventuali doveri in quella vita e sia anche il nostro appagamento di coscienza e di animo a prescindere non mi scende più notte mi vado un attimino a reincarnarmi in un giro notte la verità qua mi sta saltando tutto allora io vedo spesso il capo tribù l'indiano accanto e si è speso in aria nel mio letto e io vivo sola ma che aspetta che non ti vedo nel mio letto io vivo sola ma che significa però non ho paura sarà una tua guida può essere allora più facile che si facciano magari qualche defunto legato a te da qualche altra vita passata allora anima nuova cioè come ci si accorge di essere un'anima nuova come si distinguono dagli altri ma come dicevo prima Irene di solito le anime nuove iniziano con vite molto brevi quindi se sei un'adulta di 27 30 40 50 anni non sei un'anima nuova perché comunque loro tendono a fare tante prove in anime che hanno vite molto brevi per abituarsi alle reincarnazioni se salisse devo scusermi un dubbio io ho sentito che alcuni defunti possono ogni tanto reincarnarsi per poco tempo in qualche animale nostro e di casa per starci accanto e farci aspetta mi è salito mi è salito di nuovo ne parlavo una mia informazione in intervista cosa ne pensi ci sono pareri discordanti in merito a questa questione se la trovo te la giro grazie mille certo sono i lux lo dicevo prima succede per esempio noi abbiamo una nostra consorella il cui papà è ritornato in forma di gatto perché un essere un'entità un defunto un'anima ragionante può decidere di tornare in forma animale è un'anima diciamo nata e destinata per la forma animale che non è ragionante che non può tornare in forma umana ma il contrario può succedere ecco è salita anche lei allora si praticamente l'ho messa sotto forma di domanda e non mi sale ma è la mia testimonianza morte e risolta due volte una bonus che ho fatto solo il periodo di coma e appunto Melania allora potrebbe essere che o dovevi fare questa esperienza in questa vita oppure potrebbe essere che la prima volta che è successo il tuo corpo non ospitava l'anima che hai ora ma ospitava un'altra anime che tu sei subentrata dopo questo caso di NDE potrebbe essere sia l'una che l'altra con la meditazione tu che sei pratica dovresti riuscire però a vedere un qualcosa della pre-nascita per riuscire a capire meglio ciò che ti è accaduto se una cosa o l'altra ho letto pochi giorni fa che un medico americano nel 1907 un certo Duncan McDougall riuscì a pesare l'anima 21 grammi sì nel momento del trapasso il corpo pesava 21 grammi in meno appena morti interessante che ne pensi ci ho fatto anche un video che si intitola proprio 21 grammi e dove parlavo proprio di questa questione qui in effetti quello è un discorso meramente biologico che l'anima possa avere un peso siccome è comunque fatta di energia e l'energia ha una massa molecolare e quindi ha un peso specifico può anche essere non so se in quel caso quello che il dottore ha pesato fosse realmente l'anima o non fosse piuttosto la scorta d'aria per esempio dei polmoni della parte bassa che rimangono sempre pieni invece nel momento in cui uno esula l'ultimo respiro anche la scorta di aria sottopolmonare va a uscire e via dicendo il fatto che fossero sempre 21 grammi può far pensare di più a un discorso animico perché le scorte di aria nella parte bassa dei polmoni variano a seconda della grandezza dei polmoni e non li abbiamo tutti uguali quindi il peso sarebbe stato differente da un individuo all'altro e non sempre il canonico 21 grammi quindi in quel caso lì probabilmente è un qualcosa di sempre uguale che va a staccarsi a chiudersi a rimpicciolirsi a sparire dal corpo nel momento della morte ci potrebbe anche stare dal mio punto di vista purtroppo non sono scienziato e quindi non posso nemmeno fare tentativi e prove in merito su quello ma ci potrebbe anche stare buonanotte ori molti bambini hanno oro blu mi ah problemi di comportamento di usa autismo e vari handicap c'è un c'è una spiegazione a tutto questo i fattori menomanti sono tanti e alcuni possono essere legati a discorsi animici e quindi del paranormale altri invece sono meramente biochimici e sintomatici di sindromi ereditarie genetiche quindi discorsi assolutamente biologici bisognerebbe prenderli uno per uno e affrontare ogni caso per verificare se possa essere una cosa piuttosto che un'altra sono entrambe possibili e di solito sono entrambe anche attuabili e pensa che sono sveglia la madre avevi detto che sparivi invece sei rimasta gne 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 ciao andrei buonanotte non ce la posso fare buonanotte marina aspetta che e sali mi si blocca di nuovo tutto notte stefi io molto spesso dormo e che meraviglia dovevo studi e con chi parlava a coppamela del coreano notte autun allora ragazzi mi do la buonanotte anche io poi c'è un macello ma mi si blocca tutto buonanotte graziella lezione finita quanto dura tre secondi la lezione di coreano è una parola per lezione perché si rinasce sempre lo stesso segno zodiacale il segno zodiacale rassomiglia o è legato alle caratteristiche animiche no non c'entra niente nel senso che io ho detto segno zodiacale semplicemente perché è la cosa che le persone conoscono meglio per capire meglio il senso della questione in realtà si nasce si rinasce sempre nel momento in cui una determinata congiunzione di pianeti è sempre allineata nello stesso modo e questa congiunzione cambia da persona a persona tanto è vero che come si chiamano non me lo ricordo mai che ci fanno anche degli studi ci fanno anche la mappa stellare della tua anima eccetera lo fanno e in parte è abbastanza se uno è capace bene a fare quel tipo di calcolo io no tutto quello che riguarda l'astrologia per me è troppo complesso troppo lungo da studiare e mi annoia però ecco le congiunzioni planetarie in realtà sono determinanti per il momento in cui l'anima torna qui quindi tendenzialmente è nel momento in cui torna l'anima che noi abbiamo sempre la stessa congiunzione planetaria che sia che sia per una questione di apertura del portale quindi di permesso di uscita da una dimensione all'altra di questa specifica anima o che sia per altre motivazioni sinceramente non lo so anche se penso che sia legato proprio al discorso del trapasso tra una e l'altra dimensione però quello che conta è quello lì cioè che la congiunzione planetaria sia sempre quella ora siccome le congiunzioni planetarie sono complesse da far capire se dici segno zodiacale ti capiscono tutti allora è più semplice stare a dire nasce sempre lo stesso segno punto finish così tanto il succo grossomodo è quello io ho anche amato due volte a tre giorni a trentate anni si mi aveva raccontato Silvia buonanotte Chiara mi sto saltellando ma perché mi perdo perché qua si blocca tutto comunque vai di nuovo abbiamo fatto tre ore vabbè che un'ora l'abbiamo passata a discutere a litigare a non si sa bene a fare cosa però fa lo stesso ho cercato di tappullare le alterazioni spirituali di tutti comprese le mie perché per il resto Stefania buonanotte brava Marisa il tema natale e non mi veniva questo termine grazie buonanotte Silvia non mi veniva proprio io poi con i termini ogni tanto me li scordo e mi impapocchio ieri nel video su padre Pio mi sono pure incasinata con la data ho detto che era nato il 25 aprile invece era nato il 25 maggio ho pure mixato i mesi ho fatto un macello ieri buonanotte Sabri Silvietta buonanotte 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 a tutti ragazzi tanto qui si blocca tutto devo ancora scaricarlo sono tre ore non si scarica più prima che lo ricarico poi su youtube arrivo a dopo domani notte però dai tutto sommato alla fin fine siamo riusciti a parlare della reincarnazione tanto poi nel corso del tempo le tematiche ovviamente torneranno o uguali o comunque collegate perché comunque le tematiche poi alla fine sono tutte collegate e quindi di live in live si tornerà anche su certi discorsi buonanotte Dick buonanotte Irene buonanotte Samuel per cui i dubbi comunque verranno spiegati ripresi verranno riproposti anche gli argomenti e tutto quindi alla fine va bene così anche perché di certi argomenti si dovrebbe parlare per ore per giorni soltanto per dare la spiegazione corretta di una determinata cosa comunque per le varie tematiche che affrontiamo nelle live questo lo dico poi chiudo veramente con la buonanotte ci sono sempre tutti quasi i video di riferimento anche sul canale youtube quindi se uno vuole approfondire quello che io perlomeno spiego e so se cerca la tematica sul canale youtube troverà anche uno due tre dipenderà quanti video ho fatto su quel tema e sulle varie spiegazioni legate e comunque appunto tanto torneremo sicuramente di volta in volta nelle varie tematiche detto questo davvero vi do la buonanotte sforato le tre ore va bene così sabrina buonanotte luana buonanotte il resto non riesco più a salire perché mi si inceppa ciao ragazzi alla prossima non riesco più a salire non riesco a salire non riesco a salire non riesco a salire